per il collegamento eccolo qua è arrivato perfetto quindi credo che possiamo iniziare ditemi quando si la riunione ora in streaming dal vivo su facebook ok sì ti vedo franco perfetto bene buongiorno a tutti e scusate per il ritardo per alcuni problemi tecnici benvenuti a questo ennesimo convegno organizzato dalla coalizione cambiamo agricoltura con il contributo di fondazione cariplo e della coalizione europea good food farming e il convegno di oggi tratta un tema fondamentale e ritenuto strategico per la coalizione cambiamo agricoltura che è la nuova architettura verde della pac un tema che si inserisce in un quadro che è quello che è stato definito dal dall'accordo del trilogo a fine giugno che come coalizione cambiamo agricoltura ci ha lasciato sostanzialmente insoddisfatti auspicavamo che il trilogo potesse correggere il voto del parlamento le decisioni gli indirizzi del consiglio europeo purtroppo così non è avvenuto vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno cerchiamo a questo punto visto che le regole ormai sono state fissate a livello europeo questo incontro riteniamo sia utile per cercare di capire come alla vigilia della riunione del tavolo di partenariato la prima riunione operativa del tavolo di partenariato per la redazione del piano strategico nazionale si possa immaginare una un'attuazione dell'architettura verde della nuova pacca appunto come ci è stata consegnata dal dall'accordo del trilogo che che sia non solo efficiente ma soprattutto efficace rispetto a alle risposte necessarie che dobbiamo dare a due grandi sfide ambientali che sono i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità l'architettura verde della pacca dovrebbe rispondere si è inefficace che in efficienza anche a le due strategie europee fan to fork biodiversità 20 30 che sono state presentate ormai nel 2020 da dalla commissione europea e che purtroppo non hanno trovato a nostro avviso una adeguato recepimento all'interno dei regolamenti ehm della pacca molto dipenderà quindi dalla dalla impostazione che l'italia come stato membro darà al suo piano strategico nazionale e come noto eh quello che caratterizza la nuova pacca è una maggiore sussidiarietà con molte scelte eh che vengono delegate al agli stati membri proprio nell'ambito della redazione del piano strategico nazionale e molte di queste scelte riguardano proprio eh l'attuazione della della nuova architettura verde della pacca noi oggi ehm abbiamo ehm previsto eh in questo convegno sostanzialmente tre sessioni ehm la prima ehm che ci consente di eh dare un quadro eh a livello europeo eh della ehm dell'attuazione della nuova pacca quindi come si stanno muovendo eh gli altri stati membri dell'unione europea ehm un un focus un approfondimento eh sul sullo scenario italiano eh quindi partendo da dalla dalla presentazione del ehm dell'impostazione generale dell'architettura della pacca ma cercheremo di capire come questo si si dovrebbe calare nel nel contesto italiano per avere poi eh una seconda sessione dove presenteremo alcune buone pratiche ehm e anche alcune aspettative eh nella rispetto all'impostazione del piano strategico nazionale vi annuncio che purtroppo uno dei relatori Paolo Mosca ci ha comunicato eh che a causa di un impegno imprevisto in azienda un audit nella sua azienda non non potrà partecipare quindi avremo eh un relatore in meno rispetto al al programma e la terza parte ehm è quella in cui la coalizione Cambiamo Agricoltura attraverso due rappresentanti di Federica Luoni della Lipo e Maria Grazia Mamucini di Federbio eh presenteranno eh un quadro generale delle delle aspettative della coalizione rispetto all'attuazione della dell'architettura verde della della PAC per chi vuole eh fare domande intervenire può farlo attraverso la ehm i commenti sulla pagina Facebook eh da cui viene trasmesso in diretta a questo convegno eh sarà poi nostra cura eh indirizzare le domande a mh al relatore o a tutti i relatori e mh questa eh questo convegno viene registrato sarà possibile poi rivederlo anche sul canale YouTube eh della coalizione Cambiamo Agricoltura in modo tale da eh consentirne comunque la visione anche a chi non ha la possibilità di accedere su Facebook anche se tecnicamente chi non ha un account Facebook se si collega al link eh che abbiamo divulgato dovrebbe essere visibile ehm detto questo mh io direi che ehm entrerei subito nel vivo del eh del convegno eh dando subito la parola al al primo relatore non so se lo vedo sì lo vedo collegato ehm attivi Andrea ci sei ok ehm prego magari i relatori di mi sentite ok perfetto no scusate non vedevo perfetto bene a te la parola eh il mio turno no se non mi sbaglio sì sì certo scusa no 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 buongiorno a tutti eh ciao Franco buongiorno a tutti i relatori e le relatrici ehm ringrazio per l'invito a questa conferenza eh mi introduco eh sono Matteo ehm sono pugliese ma vivo a Bruxelles sono un ricercatore dell'Università di Pisa e mh allo stesso tempo eh lavoro sulla PAC con l'organizzazione ARC 2020 che è a sede qui a Bruxelles ehm insieme con diverse coalizioni di società civili eh stiamo analizzando la riforma eh a livello europeo a livello nazionale quindi oggi proverò un po' a a portare degli spunti che ho osservato da altri stati ehm anche che se perdonatemi non potrò fare una una presentazione comprensiva perché sono appena tornato da dalla mia ricerca in Irlanda quindi ho provato un po' a a a oggi a sintetizzare degli aspetti che secondo me sono importanti anche per l'Italia ehm eh inizio la mia presentazione e non so se la potete vedere eh provo a condividerla potrebbe funzionare se mi date l'ok lo vediamo lo vediamo perfetto allora mh prima di tutto volevo fare una sintesi di cosa sta succedendo negli altri stati a che punto si trovano i piani strategici in generale ehm ho preso alcuni stati non ho preso tutti ho preso quelli un po' più vicini all'Italia perché sono regionalizzati e come potete vedere in questa slide eh ci sono tre importanti fasi prima di arrivare alla all'invio della bozza ufficiale della del nuovo piano strategico alla Commissione Europea eh la data prevista per l'invio e dovrebbe essere per eh dicembre ventuno o comunque entro la fine di quest'anno e quelli la Commissione Europea eh sei mesi per eh valutare il piano mandare delle osservazioni e approvare per far sì che i nuovi piani strategici iniziano nel duemilaventitri gennaio allora ehm diciamo che l'Italia come siccome gli altri stati ehm è stata ha lavorato dal duemiladiciotto ad una eh nella preparazione del nuovo piano strategico e siamo adesso nella fase in cui eh le prime bozze o adesso si chiamano anche working papers per non non so ci sono diverse terminologie ma siamo nella fase in cui gli stati cominciano a inviare le prime bozze dove alcune decisioni più o meno cominciano ad apparire eh si augura che allo stesso tempo ci siano delle consultazioni pubbliche e allo stesso tempo o magari prima dell'invio della della bozza alla Commissione Europea ci siano delle valutazioni ambientali strategiche e la valutazione ex ante. se prendiamo la Spagna eh nella prima riga la Spagna ha pubblicato la prima bozza eh che includeva soltanto gli interveni del primo pilastro ehm l'ha pubblicata a luglio l'ha presentata solo alle regioni eh per avere un accordo che però ehm non è arrivato purtroppo eh ci sono ancora delle cose da delle delle cose da risolvere e tutto il secondo pilastro è ancora da sviluppare da da sviluppare eh con grande fatica ehm le coalizioni in Porotrapac in Spagna ha fatto un po' di pressione per far sì che questi eh documenti siano pubblicati sul sito ufficiale e lo sono quindi è possibile andare sul sito del ministero non di altri eh organismi affiliati ma proprio del ministero dell'agricoltura e scaricarsi tutta la documentazione eh allo stesso tempo la Spagna sta facendo la la valutazione ex ante mentre la valutazione ambientale strategica inizierà a novembre. Per quanto riguarda la Francia invece anche loro a luglio hanno pubblicato una una bozza del primo e il secondo pilastro però come forse non so se eh si è arrivata la notizia in Italia ma le misure del PSR in Francia hanno subito una importante riforma perché tutte le interventi a a non superficie ad esempio gli investimenti o ehm la o la cooperazione ehm o leader sono state lasciate le regioni mentre tutte le altre misure che sono basate a che sono a superficie quindi pagamenti biologici o le per le aree con i vincoli naturali tutte queste misure a superficie sono state centralizzate dal ministro al ministero nazionale dell'agricoltura quindi a luglio la Francia ha pubblicato questa la proposta ehm e adesso ci sono delle consultazioni in corso le consultazioni sono la maggior parte per riunioni ma ehm eh il ministero invita comunque eh tutti i partenariati a invita a inviare delle posizioni iscritte che vengono poi pubblicate per far sì che tutti possano vedere cosa eh ciascuna organizzazione ha proposto quindi un importante passaggio verso la trasparenza ovviamente poi bisogna vedere se il ministero su dieci proposte eh ne prende soltanto una rispetto alle altre nove quindi eh c'è tutta una tutta un'analisi da fare dopo allo stesso tempo la Francia sta facendo la valutazione ex ante e l'ex post la la Germania eh si trova in fase di elezioni eh a breve ci saranno le elezioni nazionali quindi è tutto un po' in stand by però già a giugno aveva presentato una bozza di legge che non era proprio mh la bozza del piano strategico ma era erano dei punti di legge che poi sono stati votati dal Parlamento tedesco e ehm e che se diciamo eh getta le basi per la 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 costruzione del del PSR ovviamente tutti i lavori di SWOT e di analisi dei fabbisogni sono stati completati quindi soltanto adesso completare gli ultimi passaggi per inviare la 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 proposta alla commissione lo stesso ha fatto la Colonia che sta ancora svolgendo consultazioni sia per scritto che per l'Unione e l'Irlanda che è il paese che ho approfondito di più ad agosto ha pubblicato mh sia le interventi del primo e del secondo pilastro devo dire la verità non ci sono ancora delle decisioni prese sono soltanto delle indicazioni e mh è avviato una consultazione pubblica che si è chiusa il 3 settembre eh allo stesso momento c'è la 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 valutazione ambientale e eh la ex ante che si svolge in corso sono stati identificati i selezionati i i valutatori indipendenti e eh questi si stanno accompagnando l'intera costruzione del piano strategico ehm siamo qui per parlare di architettura verde anche se eh devo ammettere eh sono molto più eh specializzato e credo che ehm credo che molta attenzione debba essere dedicata anche agli aspetti economici e sociali che temo in Italia possono ehm lasciarci un po' delusi per quanto riguarda la riforma della distribuzione dei pagamenti o la la creazione di un tetto massimo per i titoli ehm ma anche la creazione di schemi più attraenti verso gli apicoltori verso i i produttori su piccola media scala di eh prodotti ortofrutticoli ehm è tutta una tutta una serie di strumenti economici che possono andare più a favore più a favore dell'agricoltura contadina che eh un'agricoltura più industriale e concentrata. Comunque per quanto riguarda la l'architettura verde in questo grafico mostra un po' la differenza tra il passato e il presente. A sinistra avete la 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 come si componeva la l'architettura verde e ehm fino alla l'attuale per l'attuale l'attuale PAC e a destra avete quella eh del futuro. Non voglio entrare nel dettaglio perché sono sicuro sono cose ben note però l'idea di di base della riforma è che eh i pagamenti dell'inverdimento del greening dovevano essere ehm inglobati nella nelle condizionalità. Le condizionalità sono le regole che ciascuna agricoltura o agricoltrice beneficiaria del del pagamento diretto doveva dove deve eh deve rispettare. Sono delle regole che andremo che andrò un po' a mh ad analizzare. Al di là dei pagamenti diretti i pagamenti diretti alla alla all'agricoltore cui ci sono gli ecoschemi e le misure agroambientali del secondo pilastro. Non entrerò nel dettaglio di tutti le tutte le condizionalità ehm perché ce ne sono sono tutti importanti per l'Italia da partire anche dalle torbiere dalle aree eh eh wetlands eh dalle aree eh spagnate. Perdonatemi se mi sfuggono qualche termine. Ehm però ce ne sono due che a mio avviso ehm sono importanti per tutto il territorio nazionale e sono la condizionalità otto o le le buone pratiche agronomiche eh ambientali numero otto che è la la rotazione e la numero nove che riguarda le le aree eh dedicate a a a a elementi non produttivi. Allora la la buona condizionalità le le buone condizioni agronomiche ambientali otto hanno una logica di base. La logica è molto storica e che ehm eh non è possibile o si è fortemente sconsigliato avere due colture onzi una scusa una stessa coltura che si che si succede per due anni consecutivi sulla stessa sulla stessa terra. Avere quindi seminare pomodoro su pomodoro grano su grano ehm è una cosa che i contadini e le contadine hanno hanno sempre saputo e hanno evitato perché perché aumenta la dipendenza dei pesticidi e gli erbicidi ehm serve a rompere il ciclo delle il ciclo dei parassiti ma anche per ma anche per nutrire la fertilità del suolo. Quindi è importante che eh la stessa coltura non venga eh seminata per due anni successivi. Si può fare alcuni agricoltori mi hanno detto ma soltanto in determinate condizioni. ehm purtroppo però a livello europeo la riforma non ci ha lasciato una buona condizionalità una una regola che ehm che rispetta questo principio. Come potete vedere nella slide la la condizionalità così come è stata ehm accordata a Bruxelles può permettere eh di 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 seminare la stessa cultura per due anni successivi. Come lo fa? Introducendo il concetto di cultura secondaria. Quindi in uno stesso anno puoi seminare pomodoro e puoi metterci una leguminosa e ripetere lo stesso ciclo per più anni. Ehm quindi la l'idea di avere una cultura una cultura da rinnovo, una cultura miglioratrice, una cultura depaperante in cicli più lunghi può essere ehm sorpassata attraverso questo mh questa regola che un po' floscia diciamo un po' un po' aperta a qualsiasi forma di di rotazione anche quelle annuali come questa. Poi attenzione alle eccezioni perché questa regola si applica eh o e si non si applica a tutte le aziende che sono sotto i dieci ettari quindi immaginate la maggior parte delle aziende italiane eh le aziende certificate biologiche eh le aziende che hanno una super che hanno una superficie seminativa maggiore del settantacinque per cento ehm rispetto alla superficie agricola totale ehm dedicata a prati, magese o leguminose. E infine eh anche le aziende che hanno una superficie agricola dedicata a prati permanenti o culture sotterranee quindi le risaie ehm possono essere escluse da mh da questo dal addempimento di questa di questa condizionalità e quindi ehm l'idea di eh dare eh pagamenti diretti per rispettare le buone pratiche purtroppo ehm non non sarà molto restrittiva non sarà molto eh lascerà spazio a qualsiasi forma di agricoltura almeno per quanto riguarda la 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 rotazione. Per quanto riguarda invece la buona condizione agricola eh la buona condizione agronomica e ambientale numero nove questo è molto importante per per la biodiversità perché lasciare delle aree non produttive nelle nelle sulla superficie agricola eh è importante sia per gli uccelli sia per la i sia per le eh gli insetti eh quindi i pollinatori ma anche nel per la biodiversità nel suolo. Avere dei suoli vivi è uno degli obiettivi più importanti della 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 delle politiche agricole e ambientali. Io qui voglio fare un esempio tra un confronto tra l'Irlanda e l'Italia anche se ehm permettetemi di dire le decisioni non sono ancora ufficiali e stabili quindi posso soltanto possiamo soltanto fare un un confronto ma non niente è stato deciso. Allora l'Irlanda ha deciso di eh applicare questa regola dedicare il quattro per cento della superficie agricola a eh elementi non produttivi come magese, le siepi, le strisce erbose fiorite tra eh gli alberi, le le colture leguminose o gli stagni sono tutti elementi eh importanti per avere natura nelle campagne non solo agricoltura ma per fare delle passeggiate e vedere vedere la natura ma anche per la 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 natura che nutre la l'agricoltura quindi la l'Irlanda ha deciso di ehm far rispettare questi e questa condizionalità a tutte le superfici agricole non solo i seminativi ma anche i prati permanenti e le colture permanenti. Attenzione però l'Irlanda ha un'agricoltura diversa dall'Italia hanno ehm hanno sono molto esenti da dal rispetto di queste di queste condizionalità perché la maggior parte delle delle loro terre sono praterie sono praterie permanenti o ehm anche semi per temporanei quindi diciamo che l'Irlanda per l'Irlanda è facile applicare eh questa condizionalità a tutti i tipi di agricolti tutti i tipi di suoli. Per l'Italia invece eh c'è il rischio che questa condizionalità sia applicata soltanto ai seminativi quindi potrebbe escludere tutte le colture permanenti come i vigneti, gli oliveti, i frutteti ehm insomma tutto ciò che fa contraddistingue l'agricoltura mediterranea e eh probabilmente anche i prati permanenti. Al momento per quanto io ne sappia non ho visto l'Italia interessata a sviluppare delle linee guida eh o ehm aiutare l'agricoltore o l'agricoltrice a ehm ad addempiere a questa condizionalità proponendo delle proponendo delle non solo delle buone pratiche ma anche creando un sistema che ehm facilita l'agricoltore asseminare il favino o la ehm le leguminose eh intercalari tra le tra le piante. Non non vedo nessuno sforzo verso questa direzione e temo anche che l'Italia deciderà ehm di eh puntare solo agli seminativi per far spazio poi al pagamento di queste altre pratiche attraverso gli ecoschemi. Staremo a vedere. Comunque quando invece degli ecoschemi voglio portare il caso della della Spagna. Allora sugli ecoschemi ci sono diciamo tre punti importanti da da tenere a mente. Il budget che verrà dedicato dal pagamento dal 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 ceiling dal tetto dei pagamenti diretti. È dovrebbe essere il venticinque per cento ma alcuni stati stanno cercando un po' di ridurre questa questa quota quindi il budget totale che viene dedicato agli ecoschemi. Poi ci sono le pratiche quindi che che tipo di pratiche vengono finanziate e la terza l'attrizio elemento è il pagamento la forma di pagamento eh si va si va verso un pagamento forfettario ad ettaro o dei pagamenti diversi eh in base alla pratica o in base a alla posizione della terra e così via. ehm in questa slide voglio vedere voglio parlare delle pratiche che sono state proposte perché l'Irlanda eh non ha ancora declineato le le pratiche eh la Francia le ha declineate ma non sono ancora eh ufficiali ehm diciamo che le pratiche eh sono un po' eh nascoste e l'unica che ho ho potuto ho potuto analizzare sono queste spagnole. Allora ehm via Spagna ha creato due eh liste di eh di ecoschemi la lista principale e la lista complementare. La lista alla lista principale verrà dedicato il novanta per cento del budget degli ecoschemi e ai complementari solo il 10. Ehm un agricoltore che decide di eh un agricoltore che decide di ehm di eh applicare per di fare domanda per gli ecoschemi deve almeno selezionare una di queste pratiche principali e sono o il pascolo estensivo, la falciatura sostenibile, le rotazioni con le colture miglioratrici che dovrebbero essere una condizionalità ma come potete vedere eh la Spagna anche anche la anche sta fatto spazio per per pagare questa questa buona pratica agronomica come attraverso gli ecoschemi. Poi c'è l'agricoltura conservativa come la semina diretta la le aree non produttive sui terreni quindi pagare l'agricoltore per lasciare o l'agricoltrice per lasciare delle aree non produttive oppure la copertura con colture vive che dovrebbe essere eh se non mi sbaglio catch crop o cover crops come dicono come si dice qui e quindi lasciare ehm non so mettere il la muta ehm o delle 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 erbe che coprono il suolo per tenere gli elementi nutritivi all'interno ehm oppure delle coperti con la copertura con colture inerte queste sono le principali nelle complementari invece eh l'agricoltura è se vuole può aggiungere eh può fare domanda per un'altra pratica avere un pagamento più alto e eh applicare o la gestione sostenibile degli input ehm che a tutti è nota come precision farming ehm o la il pascolo razionale la rotazione delle specie e parcelle. Questo sono diciamo il quadro delle delle pratiche e come dicevo ehm la Spagna ha deciso o ha proposto ehm che gli agricoltori devono applicare o devono fare domanda almeno a una delle pratiche principali se vogliono possono scegliere una pratica complementare ma in totale possono a fare domanda a massimo due pratiche ehm un'altra cosa che ho accennato prima è il pagamento come vengono pagati questi escoschemi ehm eh ci sono diciamo due diciamo due modi uno molto semplice ed è quello di pagare di un pagamento forfettario e univoco eh quindi pagare per forfettario intendo che eh il pagamento è per ettaro ehm e per univoco intendo che a prescindere di quale pratica ehm l'agricoltore o agricoltrice sceglie il pagamento sarà sempre lo stesso e eh l'Irlanda e la Francia stanno andando più verso questa direzione quindi creare uno stesso pagamento per ettaro ehm per tutte le pratiche. Stiamo parlando di 64 euro a ettaro in Irlanda, 72 euro in Francia eh sono dei dati ancora da ancora da formalizzare ma le prime stime hanno proposto questi valori. La Spagna invece ha proposto un metodo di pagamento un po' più complesso ma che a mio avviso ehm va più nella direzione del ehm del result based o di ehm di un più targeted, più ehm un supporto più ehm più ehm vicino ai fai bisogni e che tiene conto delle conto delle differenze. Allora come potete vedere ehm non solo ehm sulla sulla riga in alto potete vedere diverse pratiche che ho annunciato prima e invece a sinistra potete vedere le diverse posizioni. Quindi se si tratta di ehm un prato umido o si tratta di ehm un prato mediterraneo o se si trattano di colture permanenti in pendenza tra il eh sopra il 10 per cento o tra il 10 per cento 5 o sotto il 5, no? In base a queste in queste ehm variabili ehm la Spagna ehm ha pensato di ehm di ehm un diverso pagamento quindi si va dai un estremo di 138 euro ad ettaro per ehm gli agricoltori che lasciano le coperture vegetali ehm eh nelle colture permanenti sopra i 10 eh competenza sopra i 10 per cento e ha il ehm un pagamento di 37 euro a ettaro per gli agricoltori che eh fanno un pascolo estensivo nei prati mediterranei. Questo ovviamente da una parte ehm eh va nella direzione della della complessità e di tenere conto delle differenze territoriali. Dall'altra apre tutto un dibattito eh perché eh favorire sempre le le aree più in alto e perché ci dimentichiamo delle pianure e perché ci dimentichiamo del mediterraneo e insomma è apre tutta una serie di dibattiti. Ehm e sì però eh credo che ne valgono la pena per quello che stiamo vivendo. Voglio concludere con alcune riflessioni generiche sugli ecoschemi perché credo che l'Italia eh anche essa sta approccerà la discussione in maniera più concreta immagino. Allora ehm nella riforma anche se non è siamo tutti un po' delusi da quello che è stato raggiunto a Bruxelles però ci sono due cose che a mio avviso sono importanti e che il considerando trentuno è l'articolo è l'articolo ventotto il punto quattro che sono connessi. Secondo questa quest'articolo le pratiche degli ecoschemi devono contribuire almeno a due obiettivi specifici o devono coprire due campi di azione come dicono loro. Quindi un ecoschema non può soltanto essere a favore del del benessere animale o del clima ma deve almeno coprire due di questi. Il clima e l'ambiente, il benessere animale e la resistenza antimicrobica. Se punta solo ad uno in teoria non dovrebbe essere qualificato come un ecoschema. Questa logica ci permette di analizzare quindi se i vaccini, se l'agricoltura di precisione, se la protezione delle razze autonome o a rischio di estensione possono essere disqualificate o squalificate o qualificate. Quindi è un importante criterio da tenere a mente. Un altro è l'evidenza scientifica perché molte pratiche che possono essere proposte possono mancare di basi solide sul reale contributo che hanno verso gli obiettivi della PAC. L'agricoltura di precisione che è sempre più attraente per diversi motivi deve essere considerato dal punto di vista del contributo reale che dà agli obiettivi a cui si allinea. un pagamento per raccogliere dati non significa che quella pratica ridurrà l'uso dei pesticidi o l'uso degli antibiotici. Non c'è un legame necessariamente diretto. E poi non ci dimentichiamo che dietro i dati ci sono diversi interessi, quindi gli aspetti della privacy, ma soprattutto chi va a catturare il valore. Perché anche se questi dati, mi auguro, siano raccolti da istituti pubblici, comunque, come ben sappiamo, anche l'IGEA, anche gli organismi pagatori non sono i migliori a a fornire dati in maniera accessibile, in maniera analizzabile. Andate a vedere come l'IGEA o l'IGEA pubblica, l'IGEA, scusate, l'IGEA pubblica i beneficiari della PAC, è difficile scaricarsi dati, fare delle analisi. Insomma, ci sono delle cose ancora da valutare, da migliorare lì. Quindi, anche la raccolta, pagare per la raccolta dati, pagare il contadino per riempire il quaderno di campagna. È una cosa che, in principio, potrebbe essere favorevole. Per questo ci sono, ad esempio, i fan advisor, c'è l'assistenza tecnica che viene pubblica, che viene pagata attraverso fondi pubblici, c'è il trasferimento di conoscenze, ci sono misure del PSR che possono andare adesso in questa direzione, ma anche, diciamo, in generale le stesse associazioni di categoria, dalla CIA alla contraagricoltura, possono aiutare davvero gli agricoltori a facilitare questa raccolta dati. Poi, tra l'altro, ad esempio, l'uso degli antibiotici e dei pesticidi, in teoria, dovrebbe essere qualcosa già, tutti queste informazioni già dovrebbero essere raccolte, perché come consumatori abbiamo il diritto di sapere quanti pesticidi e quanti antibiotici vengono raccolti. Quindi, ecco, bisogna stare attenti alle evidenze scientifiche, ma anche all'uso di questi dati e qual è la forma migliore per pagarli. Concludo per due aspetti. C'è una foto lì di persone nude, non voglio scandalizzarvi, ma sono i francesi che si sono davvero infuriati alla proposta del Ministero, di pagare il mantenimento del biologico attraverso gli ecoschemi. Ovviamente abbiamo parlato prima di un pagamento di 72 euro ad ettaro, che rispetto al livello regionale che avevano nell'attuale programmazione, diciamo che penalizza un po' gli agricoltori, un po' anzi, direi tanto, gli agricoltori biologici. Quindi c'è stato un movimento enorme da verso luglio-agosto di persone che per protestare si sono davvero spogliate e hanno mandato in social queste foto e continuano ancora a lottare per far sì che il governo francese rispetti, non retroguardi sul livello di pagamento del biologico. Chiudo per avere una riflessione più larga su questi ecoschemi, perché anche se l'idea di pagare le buone pratiche, delle pratiche ecologiche è il principio positivo, non ci dimentichiamo che questo è sempre un ulteriore pagamento ad ettaro e sappiamo gli effetti perversi che il pagamento ad ettaro ha creato, no? La concentrazione delle terre, concentrazione dei benefici in alcuni proprietari, ci sono ancora latifondisti in Italia, ci sono ancora persone che prendono, alcuni agricoltori, chiamiamoli agricoltori, che prendono più di 150 mila euro, si arriva anche a 500 mila euro all'anno solo sui pagamenti di base, poi gli ecoschemi e i pagamenti per i giovani sono esclusi da questi tetti, quindi è bene guardare agli aspetti verdi, ma non ci dimentichiamo anche dell'equità dei pagamenti e come vanno ad incontrare i veri fabbisogni sul territorio. Con questo credo di chiudere, volevo solo dire che noi come ARC e così come tutte le coalizioni della società civile e anche organizzazioni di agricoltori come la Confederazione dei Paesani in Francia, insomma lavoriamo con una rete europea abbastanza capillare e ampia, continueremo a guardare i piani strategici con attenzione, quindi vi consiglio di seguirci e di aiutarci anche perché è un processo che ha bisogno di esperti tecnici ma anche persone che hanno esperienza in campo a prescindere dal loro, dalle loro competenze. Non è soltanto una discussione agricola ma mi auguro che i Ministeri dell'Ambiente, il Ministero della Salute e chi si occupa di tutto lo sviluppo rurale, c'è stata una visione, la long term vision for rural area, la visione di lungo periodo delle aree rurali che promette di fare ulteriori analisi dei piani strategici, quindi ci auguriamo che ci siano più contributi dal campo, dalle persone che si vogliono impegnare e si attivano e con questo chiudo la presentazione. Se ci sono domande ci sono qui per rispondere. Grazie. Grazie Matteo, una presentazione molto lucida e stimolante che conferma alcune cose che la coalizione Cambiamo Agricoltura ha sempre detto. La prima è che il nostro paese è in grave ritardo rispetto alla elaborazione del piano strategico nazionale. Come dicevo, solo domani ci sarà la prima riunione del tavolo di partenariato in cui il Ministero delle Politiche Agricole presenterà le sue prime proposte per la redazione del piano strategico nazionale, proposte che per quello che sappiamo al momento sono state discusse e condivise solo tra le regioni e il Ministero delle Politiche Agricole. Noi abbiamo segnalato la gravità del fatto che in questi lavori preliminari non sia stato coinvolto il Ministero della Transizione Ecologica, l'ex Ministero dell'Ambiente, cosa che invece i regolamenti della Commissione richiederebbero in modo esplicito. Quindi il Ministero della Transizione Ecologica è stato messo in qualche modo sullo stesso piano degli altri stakeholder, degli altri portatori di interesse. Secondo noi questo è abbastanza grave. hai evidenziato molti punti interrogativi che sono legati alle scelte che gli stati membri sono chiamati a fare. Su questi interrogativi noi ci aspettiamo delle risposte che rispondano un po' ai criteri che dicevo prima, cioè quello dell'efficienza ma soprattutto dell'efficacia degli interventi. Siamo un po' preoccupati in Italia del fatto che l'aspetto ad esempio dell'efficienza, soprattutto della semplificazione delle procedure amministrative, soprattutto il controllo degli impegni e la facilità di attribuzione dei pagamenti rischi di condizionare negativamente quelli che poi sono la qualità degli interventi, le tipologie di interventi. L'esempio che tu hai portato anche delle possibilità di avere sugli ecoschemi dei pagamenti forfettari o differenziati a seconda delle tipologie di interventi è abbastanza esemplificativo. Come coalizione Cambiamo Agricoltura abbiamo affrontato da tempo anche l'ultimo tema che tu hai trattato che è quello dell'equità della distribuzione dei pagamenti diretti. Purtroppo la riforma della PAC ha mantenuto sostanzialmente l'attribuzione dei pagamenti a superficie, questo lo hai già evidenziato. Ci sono però delle scelte importanti che gli stati membri devono fare, ad esempio rispetto al superamento dei titoli storici. La nostra coalizione già dal 2018 ha chiesto con forza che l'Italia attraverso il piano strategico nazionale elimini i titoli storici che sono assolutamente anacronistici e iniqui rispetto all'attribuzione delle risorse pubbliche della PAC e il fatto di fissare comunque un tetto massimo che noi auspichiamo sia quello più limitante, il tetto dei centomila euro che sono stati, che sono possibili in base ai regolamenti e sicuramente da preferire rispetto alla semplice riduzione dei contributi attuali all'85% rispetto a quanto percepivano le aziende. Quindi l'attenzione forte alla una maggiore equità nella gestione delle risorse è centrale per la coalizione Cambiamo Agricoltura. Io chiamo adesso Camillo Zaccarini Bonelli di Ismea il quale può testimoniare che questo convegno sull'architettura verde della PAC era stato pensato e immaginato ben prima della convocazione del tavolo di partenariato fissata per domani che come dicevo avrà all'ordine del giorno proprio il tema dell'architettura verde della PAC e quindi eh in qualche modo siamo stati abbiamo anticipato i tempi ehm andando a mettere come dire le mani nel piatto su quelli che sono che è sicuramente un tema un tema caldo ehm come ho già detto all'inizio ehm la coalizione Cambiamo Agricoltura e insieme a alla stragrande maggioranza delle associazioni ambientaliste dell'agricoltura biologica a livello europeo è assolutamente insoddisfatta del della riforma che ci ha consegnato il trilogo ehm diventa fondamentale l'impostazione a questo punto del piano strategico nazionale e delle scelte che l'Italia eh andrà a fare eh non c'è da essere ottimisti eh almeno questa eh è la sensazione che noi noi abbiamo mh in Italia anche guardando a quella che è stata la posizione che il nostro governo ha avuto in tutto il dibattito eh europeo sulla riforma eh c'è da dire che l'Italia è stata mh tra i paesi diciamo più conservatori quelli che ehm sono stati meno propensi a a spingere per una eh una riforma in che che puntasse veramente a una transizione ecologica dalla nostra agricoltura eh quindi mh le premesse eh non sono buone eh non è buona a nostro avviso neanche la modalità con cui si arriverà a gestire il il coinvolgimento del partenariato ma a questo abbiamo visto che anche gli altri paesi europei non hanno brillato nelle forme di eh di coinvolgimento e di partecipazione e ormai eh possiamo dare per acquisito il fatto che una vera e propria ehm partecipazione e coinvolgimento del partenariato in realtà sarà ridotta a una mera consultazione. Eh quello che noi auspichiamo è che comunque nel percorso che porterà alla redazione del piano strategico nazionale ci sia comunque la possibilità eh di entrare nel merito eh ed approfondire alcuni temi eh che noi riteniamo strategici quindi l'auspicio ed è quello che proporremo noi domani è che accanto a alle riunioni in plenaria con più di di centotrentadue soggetti invitati ci sia anche l'attivazione da parte del ministero eh di tavoli tematici che consenta di approfondire eh i temi fondamentali che in qualche modo Matteo ci ha già anticipato nel nel suo intervento. Eh a questo punto passo la parola a Camillo Zaccarini Bonelli che tra l'altro ha coordinato eh proprio una una pubblicazione una ricerca da parte di Ismea per conto della rete rurale nazionale proprio sul tema dell'architettura verde della PAC e quindi sicuramente ci eh darà un contributo importante per capire come eh la nuova architettura verde della PAC potrebbe essere calata nel nel contesto italiano. A te la parola Camillo. Sì buongiorno mi senti? Sì sì sì. Perfetto. Prova a condividere le slide e e dimmi se si vedono. Sì si vede. Perfetto. Puoi mettere la presentazione? Ecco. Ecco. Benissimo. Allora innanzitutto eh ringrazio Franco e tutti gli organizzatori della della coalizione che abbiamo per l'invito. Confermo che avevamo diciamo già prima delle ferie immaginato questo appuntamento e eh appunto che si va a situare in un momento proprio topico visto che domani abbiamo anche il un ripartariato ufficiale tant'è che diciamo l'argomento tra l'altro è assolutamente coerente con quello di che trattiamo oggi. Ehm peraltro con eh Franco ci conosciamo da epoche ormai datate visto che io seguì proprio l'introduzione in Italia della condizionalità della PAC nel 2005 quindi è un tema che ci vede da lontano già eh aver trattato queste queste vicende. Ehm eh come eh Ismea noi siamo coinvolti nel tavolo nelle attività diciamo di supporto al Ministero soprattutto per il disegno della strategia eh di intervento del piano strategico sui profili più ambientali e poi io seguo anche come proprio mandato istituzionale le tematiche di gestione del rischio. Altro contenitore eh importante che verrà sarà oggetto anche di prossimi incontri pubblici probabilmente nel tavolo eh diciamo nell'autunno eh imminente. Ehm il mio intervento dopo l'ottimo intervento del dottor Metta che mi ha anticipato eh l'avrei anche potuto rimodificare in alcuni passaggi per dare anch'io non dico delle risposte ma alcuni aggiornamenti che poi domani nella sede istituzionale verranno assolutamente confermati eh diciamo dal dibattito che il Ministero portare avanti ehm eh però comunque seguo la traccia cerco di dare quella qualche spunto anche per così fare un ragionamento tutti insieme anche poi riguardo alle ultime osservazioni che ha fatto Franco. Allora il mio intervento sarà centrato su eh l'architettura verde un minimo sulla definizione del regolamento perché tutti ne parlano ma è interessante vedere anche la la nozione dell'architettura verde un punto di vista giuridico gli obiettivi la metodologia di costruzione su cui nella pubblicazione che Franco citava abbiamo provato a dare delle diciamo delle indirizzi o dei suggerimenti per avere un metodo perché se è un'architettura è un progetto deve avere un metodo sia nella progettazione che nella esecuzione nella monitoraggio e nella valutazione. E poi anche un passaggio sulle risorse disponibili tema spesso messo prima del resto io lo metto invece in fondo perché prima ci sono gli obiettivi dove vogliamo andare e poi quanti soldi ci mettiamo. Poi c'è la progettazione strategica appunto vi raggiungerò brevemente sullo stato dell'arte che domani sarà poi eh lo stato appunto nel tavolo di partariato esigenze processi di identificazione delle priorità poi il disegno degli interventi anch'io riprendo il caso degli ecoschemi che domani verranno anche lì trattati più nel merito e e la l'importanza della verifica costante dell'orientamento ai risultati e poi qualche spunto di discussione. Ehm voi sapete bene come il regolamento che ha avuto l'accordo politico nell'estate scorsa partito dalla proposta della commissione del 2018 eh ha una serie di eh articoli centrali tra cui l'articolo novantasette che cita proprio lì giuridicamente la parola di architettura ambientale e climatica che poi è stata diciamo sintetizzata in architettura verde per facilità di comunicazione. Per cui è una è un concetto giuridico quello dell'architettura ambientale e climatica nel piano seggio della PAC che da regolamento deve vedere la complementarietà tra condizionalità aggiungo io rafforzata eh gli obiettivi climatico ambientali specifici di cui l'articolo sei paragrafo uno del regolamento che sono appunto tutti gli obiettivi ambientali declinati su l'obiettivo S4, S5, S6 più i temi del benessere, più i temi della salute alimentare, più il tema dell'innovazione. Il tutto per conseguire un contributo complessivo maggiore di quello che già oggi c'è. Quindi un passo in avanti. Questo è un fatto giuridico. Un altro fatto giuridico importante da richiamarci è che questa architettura ambientale e climatica deve contribuire ai target nazionali e attenzione a lungo termine, lo sottolineo perché poi lo riprenderò, già stabiliti e fissati derivati da altri strumenti registrativi di quel legato undici del regolamento che di fatto è una declinazione delle principali piani strategici e ambientali che vanno dalla strategia sul clima, dalla strategia sulla biodiversità, dalla strategia nell'ambito della direttiva quadra delle acque della rete Natura 2000 e del piano di riduzione delle emissioni in atmosfera, sulla qualità dell'aria. Ora, a tutto questo pacchetto poi, che in un certo senso dice cosa dobbiamo fare e come, si aggiungono poi dei target che altri strumenti comunitari che tutti conoscete bene hanno in qualche modo cercato di quantificare, cioè quale sforzo, quanto chiediamo che si raggiunga con la nuova PAC attraverso il front to fork in coerenza con tutta la strategia Green Deal europea. Quindi la riduzione del 50% dell'uso dei fitosanitari, la riduzione del 50% degli antibiotici in zootecnia, acqua, cultura, l'obiettivo positivo di raggiungere almeno il 25% della SAO a conduzione biologica, l'arresto e l'inversione del declino di uccelli e insetti, in particolare impugnatori negli ambienti agricoli, ed è questo un tema ad esempio ripreso nella strategia biodiversità europea 2030, ma che non ha avuto una reproposizione della quantificazione tra i target qui nella strategia front to fork, mentre la strategia europea parla di almeno raggiungere il 10% nel 2030 di aree, diciamo, con alta biodiversità. E poi dobbiamo ridurre le pere di nutrienti connessi alle pere di fertilizzanti di almeno il 50% e ridurre le fertilizzanti almeno del 20%. Ora, da questo pacchetto, diciamo, di obiettivi e di target deriva una costruzione di un'architettura. Questa è una slide che ho già presentato nel convegno organizzato da Nomisma con i colleghi di Federbio e saluto anche la Presidente Momicini presente oggi al tavolo, che voglio riproporre lì il mese infine e alla fine del slide. Qui l'ho messo all'inizio perché ritengo che questa, diciamo, costruzione di questa casa, di questo edificio che è l'architettura vera della PAC, sotto il cappello piano strategico PAC, ha necessità di essere capito, condiviso da tutti, diciamo, i partecipanti alla costruzione del piano strategico. E quindi è importante anche vederlo, capire che gli strumenti sono la condizionata rafforzata e gli ecoschemi, la condizionata rafforzata a cavallo fra i due pilastri, poi gli ecoschemi più sul primo pilastro, ma anche tutte le misure agroclimatiche ambientali dei PSR, che dentro l'assetto, diciamo, organizzativo che ci si sta dando a livello nazionale, vede un coinvolgimento delle regioni come nell'attuale programmazione. Però dentro questa cornice unitaria, questa è la novità, lo sforzo, che non è per nulla banale in uno Stato con 21 regioni, con migliaia di impegni agroambientali oggi in essere, che dovremo capire come armonizzare se vogliamo stare tutti sotto la stessa casa. Ed è questo un tema di metodo che io più volte ho richiamato internamente anche alle riunioni ministeriali, ma che adesso propongo anche all'esterno perché ritengo essere un argomento qualificante della riconduzione a un quadro armonizzato, diciamo, delle strategie in Italia di politica agroclimatica e ambientale. Quindi abbiamo una grande occasione per farlo, che è appunto la metodologia di costruzione di questo sistema, che però non dobbiamo fermarlo solo alle misure superficie, ma lo dobbiamo leggere insieme ad altri interventi che vedete sempre qui disegnati, interventi ad investimento, tutto il tema green, tutto il tema delle altre misure che concorrono all'ambiente, pensionabilità compensativa, anche se in misura magari minore, ma importanti comunque, così come anche tutti gli interventi che io ritengo essere coesistenti, due pilastri paralleli della ricettura verde, che sono gli interventi forestali che sempre dimentichiamo, ma che invece sono parte di un unico quadro green fondamentale, fondamentale, ancorché sapete bene come le foreste non siano eleggibili alla PAC, per cui sono in un continuatore un po' distinto, ma che noi dobbiamo cercare di sforzarci, secondo me, di leggerlo in maniera unitaria, perché oggi tutte le aziende agricole, bene o male, hanno dei pezzi anche a bosco, e quindi una visione olistica, diciamo, di questo aspetto, oggi potremmo inserirlo come strategia dentro il piano strategico, se già ce lo poniamo come approccio metodologico. E così l'Achis è tutto il tema anche della consulenza aziendale, come citava appunto Tormetta, che è centrale in questa partita, perché senza conoscenza non si può fare impresa. Si può tentare di stare sul mercato, ma alla lunga si rischia di uscire, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di sostenibilità della produzione agricola. Poi qui ho messo uno spartiacque, che non dovrebbe esserci, ma purtroppo c'è, un po' per un fatto, diciamo, storico, anche di architettura costituzionale e istituzionale, cioè abbiamo poi tutte le altre politiche che dovrebbero lavorare insieme. Noi dobbiamo cercare di gettare un ponte per superare questo, diciamo, cesura che c'è col PNRR, le politiche di coesione, e con altre politiche regolatore nazionali, pensiamo anche alle stesse leggi finanziarie, tutto il tema della fiscalità generale, che in qualche modo dovrebbe potersi spingere verso un quadro unitario. Capisco che questi sono principi forse più di buon senso, di buon auspicio, ma è chiaro che uno, quando si impone all'inizio di una programmazione, cercare di puntare alto, secondo me è fondamentale. Quindi una capacità di ricostruire un quadro unitario che il Ministero, debbo dire, pur nella difficoltà e nei ritardi che sono stati segnalati, che sono innegabili e che, per inciso, riguardano un po' tutta Europa, perché anche dalle slide del collega che mi ha preceduto, mi sembra che anche i stati membri stanno un po' più avanti dell'Italia, ma non poi così avanti, perché lo stesso regolamento non è pubblicato e verrà pubblicato a fine novembre, quello di base, e poi tutti gli atti di esecuzione, gli atti delegati della Commissione devono essere diramati in pochissimo tempo, cosa condizione necessaria alla prestazione del piano strategico, perché alcuni dettagli saranno negli atti della Commissione che vedranno la luce solo dopo la pubblicazione del regolamento comunitario di base, cosa quindi che denota un ritardo europeo da parte della Commissione europea in periodi misti, diciamo. Però non vogliamo assolutamente mettere una foglia di fico sulla necessità di accelerare, questo è un must, perché noi dobbiamo fare di tutto per presentare tra fine anno un piano strategico e arrivare dal primo giorno del 2023 a partire. E vado adesso al tema fondi che citavo prima, a un certo punto ho detto sulla cittura verde e poi c'è la questione delle risorse. Beh, articolo 28 sugli ecoschemi, sapete bene tutta la questione del rimfencing, cosiddetto, diciamo, del recinto di fondi destinati dentro il FEAGA agli ecoschemi, dell'obiettivo del 25% almeno, con tutte le deroghe legate alla flessibilità nei primi anni di avviamento, però cosa vuol dire finanziariamente parlando? Circa poco o meno di un miliardo all'anno, c'è una cifra enorme. Vi faccio presente che lo stesso greening valeva circa un miliardo, solo che oggi quel greening che era pagato è transitato in un obbligo e non è più pagato perché sta dentro la condizionalità. E quindi questi ecoschemi faranno qualcosa in più. Quindi questo miliardo che viene riproposto oggi, più o meno, con gli ecoschemi, di fatto, è un miliardo che produrrà di fatto qualcosa in più di quello che è, e deve produrre di più, di quello che era le regole di greening fino ad oggi, note e anche molto criticate, a mio avviso non in maniera errata, non solo dal mondo ambientalista o anche da voi, ma anche proprio dagli atti infucciari, penso alla Corte dei Conti europea o altri enti che hanno fatto delle verificazioni sulla PAC che si sta concludendo, adesso in fase di proroga 21-22. Poi abbiamo l'altro, quindi un primo contenitore è FEAGA, circa quasi un miliardo all'anno. Poi abbiamo un altro contenitore che è quel cosiddetto ring fencing agroclimatico ambientale all'interno dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di base, che prevede questa volta nel secondo pilastro FEASR, almeno anche qui il 35% di partecipazione totale del FEASR al piano strategico, riservato a interventi riferiti a obiettivi specifici ambientali e climatici, di cui è l'articolo 6. Da una stima che abbiamo fatto con Mismea, questo conta circa, vuol dire all'anno, di spesa pubblica, attenzione, quindi tenendo conto anche della quota statale e regionale, diciamo su una stima di proiezione, tutta da poi verificare in base al riparto che andrà fatto con le regioni, però circa 1,1 miliardo di euro all'anno di fondi minimi, come quale, diciamo, soglia minima globale di destinazione di fondi FEASR alle politiche green dell'architettura verde, diciamo, soprattutto per le misure a superficie, e anche quelle forestali e anche le indennità compensative. su questo, sapete, c'è dentro l'articolo 86 dove tutto una quantificazione del cosiddetto climate tracking expenditure, cioè quindi un censimento di quello che è l'apporto delle varie misure del secondo pilastro agli obiettivi green, e c'è quindi un maggior o meno peso secondo delle misure, ad esempio le indennità compensative peseranno meno, diciamo, delle misure agroclimatiche ambientali, ad esempio. Però questo è un pacchetto obbligatorio che deve essere fatto. So che le richieste anche qui del mondo, anche della vostra coalizione, erano molto più alte, anche il Parlamento Europeo era apparito da cifre più alte, si parlava anche di un 40%, però c'è un segnale positivo, dobbiamo dircelo, per non parlare sempre, diciamo, in maniera pessimistica. C'è anche il cosiddetto principio di non regressione agroclimatica ambientale, altro principio importante, cioè dire gli sforzi raggiunti non devono essere disattesi, gli obiettivi già raggiunti non possono essere retrocessi, e quindi oggi in Italia noi stiamo già in questa programmazione a una media globale in dispesa pubblica di un miliardo e mezzo all'anno, applicato, diciamo, questo è il miliardo e mezzo, è la proiezione dell'impegno agroclimatico e ambientale dell'attuale programmazione sui nuovi fondi di 23-27, anche questo è una stima SMEA. Quindi sto dicendo che l'Italia parte già alta, oltre quel recinto più basso del rimfencing dell'86-2, e quindi se vogliamo, già oggi ci situiamo a una percentuale ben più alta, molto più vicina a quegli obiettivi quasi del 50% oltre della spesa del FEAS destinata a tematiche ambientali. Questo è un tema importante da segnalare per far capire che, a mio avviso, le premesse per fare dei passi in avanti ci sono. Passando ora allo stato dell'arte e della programmazione, perché ho dato un po' il disegno, riprendendo alcuni passaggi normativi, e quindi l'inquadramento del tema architettura verde, passando a qual è la situazione dello stato dell'arte e della programmazione in Italia sul piano strategico, noi abbiamo una situazione di avanzamento, diciamo, del tavolo ministeriale, che poi domani porrà anche pubblicamente i suoi risultati, dopo passaggi già fatti con le regioni, come diceva Franco, sull'analisi sull'analisi svuota, sulla priorità che sono state individuate e le esigenze che si ritengono prioritarie da porre come obiettivi dentro il piano strategico nazionale. Da questo discendono e discenderanno gli obiettivi quantificati e poi tutte le linee di intervento strategico, quindi gli interventi, condizionale rafforzata, la selezione degli interventi targeting priorità territoriali, territoriali all'interno del PSR, gli ecoschemi, fiacchamento ambientale e altri interventi. Il tutto dentro quelle cornici normative a destra e a sinistra che ho richiamato all'inizio. Io qui ho provato brevemente a riportare una disamina e attenzione, questo è un elenco provvisorio che dovete prendere con mini beneficio di inventario perché è un discorso in movimento e che anche domani verrà oggetto di trattazione del tavolo e non è ancora chiuso nulla, però qui trovate una elencazione di quello che è un primo esercizio di identificazione di maggior o minore interesse e quindi maggior o minore priorità alle diverse esigenze che l'analisi SWOT del piano strategico nazionale ha portato a identificare in relazione ai principali obiettivi strategici che io qui ho ennucleato soltanto per la parte di interesse dell'architettura verde, quindi lo S4, lo S5, lo S6. Io ho provato a condensare nella parte alta quelli che sono stati attraverso un sistema di votazione statistico che verrà probabilmente riproposto all'intero partariato. È stato votato però adesso solo dal mondo delle amministrazioni. Quello che sono fondamentalmente i maggiori o minore esigenze ritenute maggiormente votate, tra virgolette, quindi delle più o meno importanti. Attenzione a livello nazionale. È chiaro che il targeting, di cui parlava Metta, l'approccio territoriale, l'orientamento e il risultato locale è un'altra cosa. Qui si sta parlando di livello generale, il che ha dei pregi, dei difetti, come tutte le cose viste da lontano. Però, diciamo, al netto di questi caveat che ho detto, è interessante notare che l'esercizio di prioritizzazione ha portato ad esempio a vedere, come nell'obiettivo S4, che è quello sul clima, di dare molta attenzione alla capacità di sequestro di carbonio, dei terreni agricoli e delle foreste. Tema centralissimo questo. È riproposto come importante anche in questo processo di prioritizzazione. Così il tema delle energie rinnovabili e così il tema del biologico. Agricoltura e biologica è la priorità massima. Poi invece, nell'obiettivo 5, che è quello sulla gestione delle risorse naturali sostenibili, quindi suolo, acqua, aria, fertilità, strutture e qualità del suolo, tutela delle acque e qualità dell'infinamento, considerati centralissimi. Sul tema biodiversità, massima attenzione ad esempio all'obiettivo naturale. Poi nella parte sotto trovate tutte invece una serie di esigenze ritenute di media importanza, che non vuol dire che non siano importanti. È un ordine, diciamo, di prima tentativo di valutazione, di una prioritizzazione del termine neologismo poco elegante, ma che cerca forse di dare il senso dell'esercizio che è in corso. Quindi abbiamo anche qui una dichiarazione di altri interventi, per poi andare a quelli ritenuti un po' più di minore portata, come l'emissione di ammonica e dei gas inquilanti nell'aria, che questo non vuol dire che non è importante in alcune aree, ma è molto legato ad alcune filiere, ad alcune realtà, per cui anche più limitato, se vogliamo, in termini di, ancorché sia, di estrema importanza per il tema del particolato, della qualità dell'aria, anche qui del cambiamento climatico, ci mancherebbe altro. Il tema dei servizi ecosistemici e sistemi di mercato volontario, che qui è stato giustato basso, ma anche questo sono, diciamo, degli esiti che io riporto, senza dare il mio parere personale. Se andiamo a ricollocare tutto quello che abbiamo detto all'interno, diciamo, di un quadro d'unione, per cercare di fare una prima sintesi di quale potrebbero essere un chiaro oscuro delle principali esigenze legate all'architettura verde, che è il tema di oggi, dentro il piano strategico redigendo, diciamo, noi vediamo che si situa molto alto fra le esigenze legate alle priorità OS4 e OS5 e il tema del biologico. Ecco qui quello che diceva Metta, attenzione a quella bivalenza degli ecoschemi, almeno su due obiettivi, e qui lo trovate abbastanza rappresentato, a cavallo, fra l'S4 e l'S5, il tema del biologico, il che non significa che non concorra anche alla priorità ad altri obiettivi, ma è un tema di priorità in questo caso. E poi il tema della tutela del sole e delle sue funzioni, anch'essa a cavallo fra l'S4 e l'S5. Un po' più bassa come priorità è la tutela delle acque, riferita molto al tema all'OS5, e più, diciamo, appare di livello il tema del mantenimento della valorizzazione dei strisci sistemici, e del tema dell'estensivizzazione e del mantenimento delle aree ad alto valore naturalistico. Ecco, detto questo, vengo quindi cercato di dire qual è lo sale e l'arte di un processo, diciamo, di identificazione degli obiettivi e delle priorità nel piano strategico, cosa che sta vedendo, per ricollegarmi all'intervento precedente, anche l'avviamento della tavola, della valutazione exante, della vasta, con l'individuazione anche di un organismo terzo che lo condurrà, questo tipo di valutazione, vado ad alcune notazioni in ordine alla disegno degli interventi, soffermandovi a titolo, diciamo, d'esempio, sui due oggi più trattati, anche nel tavolo ministeriale con le regioni, perché sono proprio la base di quell'architettura, sono la fondamenta, la condizione rafforzata e poi il primo livello che è gli ecoschemi che ho fatto vedere all'inizio. Quindi mi soffermo solo su questi oggi, però cercando poi di dare degli spunti conclusivi a cui mi sto velocemente rivolgendo per evitare di prendere troppo tempo. E quindi abbiamo il tema della condizione rafforzata in un tavolo che è in corso con le regioni e che sta già producendo, diciamo, dei primi passi che verranno, stanno portando a un primo schema di decreto che sarà sicuramente oggetto di concertazione con tutte le parti, anche con voi sicuramente, e che è importantissimo perché definisce la baseline di partenza. Lì dentro vengono portate dentro le nuove BCA che sono state già prima richiamate, c'è anche il tema di nuove chiesi e leggi che sono obbligatori da tarare, c'è il tema dell'uso sostenibile dei fitofarm, invece, eccetera. Poi andando però adesso alle altre misure, in particolare al disegno degli ecoschemi dell'arriambiente, torno al metodo, cioè abbiamo provato, almeno personalmente, a impostare l'analisi attraverso, partendo sì dall'elenco delle pratiche della commissione che purano tutti i limiti che avete evidenziato nel webinar sugli ecoschemi dell'estate scorsa, cioè i limiti di un approccio di una lista a volte troppo confusa che mette insieme i singoli impegni con intere pratiche, diciamo, che riuniscono più tipologie agronomiche. Però al di là, diciamo, dei limiti di quella lista, l'importante era avere un lessico comune con la commissione, identificare quei interventi, diciamo, importanti per loro, ma anche per noi, e cercare di ripartirli a livello nazionale come ecoschemi e capire cosa resta poi, tra virgolette, a livello regionale come misura agroclimatico ambientale. Questo è un po' l'esercizio metodologico che ci ha portato poi a definire quella prima lista di ecoschemi in ordine i quali stiamo procedendo agli impatti finanziari e fisici e, di cui io aggiungo, molto importante, e questa è la novità, la valutazione combinata del grado di raggiungimento dei target di FAN2FORC. Questo è un approccio centrale che dobbiamo, io penso anche a voi, vi invito a riflettere, di portare avanti, perché non è sufficiente dire cosa voglio e qual è l'obiettivo, ma dobbiamo fare ogni spazio insieme per capire anche l'impatto e stimarlo insieme perché è un problema di conoscenza e avere questi tipi di dati e informazioni non è così facile. E siccome voi, diciamo, come organizzazione, state molto più in contatto anche sul territorio, potete avere delle informazioni molto utili al disegno congiunto anche di quello che è questo orientamento ai risultati che ormai è la mantra centrale di questa riforma. Tutto questo ci porterà poi alla definizione di fish technique che è molto importante, il tema della controllabilità e degli aspetti amministrativi che diceva Franco. Questa è la lista dei sette ecoschemi che il Ministero ha identificato secondo l'approccio di cui ho detto sopra e che domani verrà probabilmente presentato maggiormente nel dettaglio e discusso, certo, in un tavolo molto ampio e che quindi necessiterà di approfondimenti anche con voi sicuramente a parte per entrare nel merito di ognuno di essi. Oggi sono miso fermo su questi, mi limito semplicemente a richiamare l'importanza del fatto che abbiamo cercato di portare dentro questa lista l'intera, diciamo, agricoltura italiana, non solo i seminativi, come si è detto a un certo punto, la preoccupazione che si faccia soltanto, come dire, in qualche modo si ponga l'attenzione solo a una parte dell'agricoltura, se cercate di avere un approccio, diciamo, che porti dentro anche il tema dei prati pascoli, di gestione dei prati pascoli, anche il tema delle colture permanenti, una misura ad hoc per esse, certo, sono interventi da discutere, possono essere migliorati, ma attenzione, devono essere interventi che devono consentire di far partecipare gli agricoltori perché senza eccessiva difficoltà di accesso e di esclusione, perché se no rischiamo che quei 900 ogni anno li perdiamo, perché non funzionando come l'N più 2 del secondo pilastro, quei 900 milioni si entro e 15 ottobre non si pagano, si perdono, quindi le misure non possono essere solo, non devono essere solo buone, devono essere appetibili e accessibili. Qui riprendo velocemente due slide presentate al convegno che ho citato anche prima di Nomisma e di Federbio per quanto attiene all'importanza di legare alle nostre proiezioni e scenari gli impatti sui target del Gendilla e del Fatto Fork. La prima linea azzurra è l'ipotesi in cui la misura biologica va davanti da qui al 2030 secondo i tassi di incremento che ha oggi. Noi arriveremo nel 2030 con una SAO italiana intorno al 21% bio. Se invece raggiungiamo una SAO al 25% almeno come chiede la Commissione europea, so diciamo che voi chiedete ancora di più però adesso mi sono limitato a riportare quello che ho già usato un mese fa vedete che la linea nera fa vedere che già il target di un bio al 25% in Italia nel 2030 sull'obiettivo di riduzione dei fertilizzanti consentirebbe di raggiungere anche questo obiettivo quasi in automatico perché arriveremo anche a ridurre l'uso dei fertilizzanti in maniera coerente quindi c'è un approccio win-win diciamo fra gli interventi degli stessi target del front-to-for la stessa cosa dica sempre la riduzione dei fitosanitari anche se è un po' meno forte l'impatto e lo stesso biologico da solo non dà la spallata a questo target per cui qui è necessario intervenire con altre misure tra le quali c'è quello dell'agricoltura integrata che è stata proposta e che in questi scenari non è stata ancora analizzata nel suo impatto e quindi giungo al termine per richiamare alcuni spunti finali allora a mio avviso la chiatura verde deve essere vista non come un vincolo ma come un'opportunità e non la possiamo perdere ora gli obiettivi della PAC io diciamo anche da agronomo agricoltore eccetera ritengo siano comunque dobbiamo richiamarli sempre il trattato di Roma è quello il trattato istituzionale dell'Unione Europea e oggi la PAC articoli 38 del vecchio trattato di Roma ancora oggi vede il tema del reddito dei prezzi equi per i consumatori di una redditività dell'agricoltura centrali e non possono essere dimenticati il ridisegno dei pagamenti diretti che è in atto attraverso il sistema di convergenza dei pagamenti da una parte il tema del capping richiamato anche prima il tema del sistema redistributivo dei pagamenti diretti determinerà diciamo modificazioni importanti ora non è l'azzeramento dei titoli storici no ma abbiamo comunque strumenti per riorientare meglio l'efficacia e l'efficienza di questi pagamenti ora questo riorientamento noi non dobbiamo dimenticare che in un ordine diciamo di importanza vede più sensibili le culture a più basso reddito per cui dai seminativi o culture permanenti estensive penso l'olivicoltura penso anche l'agrumicoltura e i seminativi e i pascoli si va poi alla zootecnia che è abbastanza sensibile il settore del latte è un po' meno ma la zootecnia da carne è di più poi al sistema e via via si va verso tipi di culture che hanno un po' meno impatto dal ridisegno della PAC le orticole le fruttiche e l'erbiti vinicolo questo è una sorta di ordine diciamo qualitativo di sensitività al ridisegno dei pagamenti diretti allora io lo dico a voi perché ve lo segnalo come metodo secondo me attenzione ogni proposta che si fa di natura green dentro la creatura verde deve avere dietro questa attenzione attenzione perché qui stiamo spostando soldi velocemente da filiere più o meno che necessitano più o meno per sopravvivere di questi aiuti e qui non ho messo il livello della politica territoriale tra pianura colline e montagna che pur ha altrettante difficoltà intrinseche che incrociano questo tipo di analisi e quindi attenzione all'impatto territoriale attenzione all'impatto settoriale l'architettivo era verde lo dobbiamo inquadrare dentro l'intera riforma e non come una cosa avulsa e tutto tenendo insieme sempre l'orientamento risultato climatica ambientale perché se non facciamo questo per prima la questione europea non approverà il piano strategico quindi attenzione questo è un messaggio di metodo ma anche di approccio che io volevo dare e chiudo veramente sono andato un po' oltre perdono per il tempo che ho preso ma mi piaceva approfondire questi temi per dire se a mio avviso dobbiamo superare la logica di breve periodo questo lo dico perché ho la sensazione che l'idea di una programmazione così più corta del passato 23-27 quasi faccia troppo pensare che si possa come dire arrivare a 27 e poi riparleremo se ne vedrà bene noi dobbiamo superare l'approccio finanziario anche nella mia presentazione avete visto l'ho messo dopo perché dobbiamo andare verso una visione soprattutto sui temi ambientali di lungo periodo e voi me lo insegnate e allora forse l'importanza del partenariato verticale orizzontale tra amministrazioni e anche diciamo soggetti non istituzionali ma comunque fondamentali come quali voi nel sistema diciamo di consultazione secondo me forse la novità che dobbiamo portare è quello di un patto strategico col sistema produttivo che vada oltre il 2327 e traguardi il lungo periodo pensiamo soltanto all'obiettivo climatico di neutralità climatica quello punta il 2050 ma se noi non arriviamo già oggi nel pack 2327 a impostare un modello che poi arriverà al 50 in un certo modo come faremo veramente a raggiungere obiettivi che voi sapete nel mondo ambientale hanno necessità di lunghi periodi e non di politiche di corto respiro spesso assolutamente non efficaci grazie 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 Camillo anche il tuo contributo molto importante abbiamo voluto dare più spazio ai primi due interventi proprio perché erano sostanziali ci consentivano di avere un quadro chiaro del tema in discussione in discussione oggi chiaramente la coalizione Cambiamo Agricoltura è più che mai disponibile a ragionare su quello che tu hai definito un patto strategico anche un'alleanza con il mondo produttivo non a caso nella coalizione è presente diciamo la componente più sostenibile dell'agricoltura in questo momento che sono le associazioni del biologico e del biodinamico sono parte integrante da sempre della nostra coalizione ma noi siamo sempre stati aperti al confronto e siamo convinti che bisogna ricercare un'alleanza con tutto il mondo produttivo dell'agricoltura italiana devo dire purtroppo che appuntamenti come questi ad oggi sono stati promossi solo dalla nostra coalizione noi dal 2017 cioè da quando è nata la coalizione Cambiamo Agricoltura ad oggi non siamo stati mai invitati a confronti di questo tipo da parte degli altri attori che domani si ritroveranno al tavolo di patenariato in particolare le associazioni agricole noi le abbiamo sempre invitate purtroppo non è mai successo il contrario e va detto che purtroppo il mondo agricolo sembra aver adottato un po' la strategia dello struzzo quello che avevamo spiccato non accadesse nel convegno che facciamo nel gennaio del 2020 cioè il fatto di non voler prendere atto dei gravi problemi legati ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità e le responsabilità che l'agricoltura ha su queste su queste crisi io ricordo che gli ultimi dati presentati dalla Commissione europea hanno confermato che l'agricoltura è la prima responsabile della perdita della biodiversità in Europa e a livello europeo contribuisce per il 12% delle emissioni di gas climalteranti in Italia siamo leggermente più bassi siamo intorno al 7 ma diciamo un'agricoltura non basata su principi agroecologici al di là delle emissioni dirette svolge un ruolo fondamentale come è stato ricordato anche sulla cattura del carbonio e sulla mitigazione e sull'adattamento quindi c'è da sperare che nei lavori del tavolo di partenariato si creino le condizioni per per costruire questo patto strategico di cui di cui tu hai parlato prima di passare agli altri relatori a cui chiede chiedo la cortesia di cercare assolutamente di restare al di sotto dei 15 minuti di tempo a disposizione io presenterei rapidamente due tre domande osservazioni che sono arrivate sui primi due interventi così diamo modo ai due relatori di rispondere subito prima di passare alla seconda sessione del convegno la prima osservazione è legata al vincolo di condizionalità della BCA9 cioè la quota di natura all'interno dell'azienda agricola chi ci ascolta ci dice il 4% deve essere a corpo unico per ogni azienda altrimenti avremo delle migliori delle ipotesi capezzani improduttive nella peggiore trappola mortali che verranno trattate o su cui arriveranno per deriva i pesticidi questo è il tema un po' che si ricollega al tema dell'efficacia cioè fare sì che gli obiettivi anche della condizionalità ma non solo ancora di più quelli degli ecoschemi diano dei risultati che siano dei risultati reali ed efficaci se ci si limita semplicemente a rispettare le percentuali limitando al minimo gli impegni degli agricoltori rischiamo di fallire in partenza un'altra domanda è legato al tema della verifica dei controlli si chiede se oggi il registro dei trattamenti sia diventato uno strumento inutile e perché non proporre invece un registro elettronico in tempo reale quindi qui è più che altro il tema degli strumenti per verificare poi il raggiungimento dei target di cui ci parlava Camillo Zaccarini un ultimo intervento è arrivato adesso ecco preoccupa il nostro spettatore è preoccupato per lo schema l'impostazione degli ecoschemi che è stato presentato anticipato in particolare si chiede se nelle pratiche di agricoltura di precisione supportata da fatture di acquisto di apparecchiature sia sufficiente per considerare raggiunti gli obiettivi ambientali per l'ecoschema penso che sia ecco queste le domande le domande sostanziali troppo allora un'altra un'ultima osservazione è arrivata in questo momento ho paura che richieste troppo stringenti come ad esempio il trattare di notte persino all'adesione di una percentuale bassa della SAO trovo da agricoltore pericoloso spostare il focus dal vincolo ad interesse queste diciamo sono le osservazioni principali che sono arrivate da chi ci segue sui primi due interventi quindi chiederei sia a Matteo e a Camillo due repliche veloci due risposte veloci a queste osservazioni non so se Camillo voleva intervenire prima di me Camillo vuoi intervenire tu per primo vai vai Matteo allora per rispondere alla preoccupazione del partecipante su il 4% delle aree dedicate a elementi non produttivi è una preoccupazione che condivido il regolamento è chiaro su questo il 4% viene calcolato sull'intera azienda quindi non sulla particella o la particella se non mi sbaglio dell'azienda quindi avere il 4% sul totale significa un po' lasciare un po' di campo di manovra per l'agricoltore o l'agricoltrice di dedicare delle zone naturali in un punto e lasciare altre invece prettamente all'agricoltura quindi è una cosa un cavillo che ovviamente non è sfuggito a chi ha lavorato sui regolamenti ma è fatto lì apposta per lasciare più flessibilità per quanto riguarda i quaderni campagna io vengo da un'azienda agricola quindi so la difficoltà nel registrare ovviamente le applicazioni gli strumenti digitali possono aiutarci nel semplificare il lavoro bisognerebbe sempre guardare però alle competenze all'assistenza al costo di queste applicazioni e al beneficio che ne trae l'agricoltore chi gestisce i dati e chi ne valorizza quindi in realtà è una cosa che si augurava da tempo è sempre stato un po' una difficoltà degli agricoltori non è sempre un piacere andare a scrivere tutto però è una cosa importante sia per l'azienda stessa ma anche per la trasparenza verso gli organismi pubblici quindi ci sono diversi strumenti per per far sì che l'agricoltore registri tutto e qui l'assistenza tecnica in Italia potrebbe offrire grandi potenziali se si pensa ad un Achis che guarda che ha una visione pubblica dei servizi quindi se si può pensare ad una digitalizzazione dei guadini di campagna ma anche del consumo all'uso dei pesticidi degli antibiotici in campo benvenga bisogna stare attenti quale strumento lo finanzia perché è un ecoschema ad esempio è pagato per far sì che ci siano dei benefici dei miglioramenti raccogliere dati registrarli non implica che c'è necessariamente un beneficio c'è una differenza sostanziale in questo quindi bisogna capire quale strumento della PAC è più idoneo a sostenere questo per quanto riguarda invece i dubbi su precision farming e così in genere c'è stata un'osservazione di un partecipante è importante capire la definizione che viene data del precision farming perché è un concetto abbastanza ampio non è soltanto raccolta dati ma è anche ottimizzare l'applicazione connettere i dati tra connettere le cose come diciamo noi impuglia le cose connettere the things e quindi siccome una definizione è così ampia bisogna capire l'Italia che definizione prende e che tipo di pratiche va a sostenere e chiudo invece per quanto riguarda c'era un'ultima domanda sui vincoli di interesse ah sul vincolo interesse ah sì allora io penso che i vincoli se vengono posti da delle autorità pubbliche hanno delle finalità importanti per l'offerta di beni pubblici quindi le rotazioni le aree naturali sono lì per un motivo pubblico diventano meno pesanti per l'agricoltore o l'agricoltrice se dietro c'è un sistema pubblico a supporto dire all'agricoltore mettimi le leguminose ma non andare a vedere che nella pianura nel tavoliere pugliese dove si faceva dove c'erano leguminose si facevano le sagre delle fave dove si era più gli agricoltori raccoglievano i propri conservavano i propri semi di fave per poterle ripiantare e andare oggi invece e chiedere all'agricoltore mi puoi mettere le leguminose così ti do pure i soldi e non pensare che è diventato impossibile trovare trovare le fave e seminare il favino o aiutare con dei sistemi cooperativi all'inseminazione all'asseminare ogni anno queste culture intercalari è un po' contraddittorio dire io ti impongo questi vincoli ma non ti aiuto tra di vedere te dobbiamo uscire un po' da queste logiche quasi neoliberali e aiutare quanto più possibile l'agricoltore a offrire i sistemi pubblici dare i soldi così ti do un ecostema te la vedi te e non pensare a tutto quello che c'è dietro da sistemare i semi le macchine condivise tra diversi agricoltori la società che chiede queste pratiche attraverso festival attraverso sagre è tutta una cosa guardate più ampia bisogna guardare i sistemi dal punto di vista di sistema non di pagamento per aiutarti a superare questa è la mia visione ottimo Matteo grazie Camillo vuoi aggiungere integrare qualcosa in risposta alle osservazioni sul quaderno di campagna in realtà allora c'era un obbligo normativo che riserva al DM 152 162 2015 che era cosiddetto decreto semplificazione che non ha semplificato ma che aveva l'obbligo di inserire nel fascicolo il quaderno di campagna e che però ha visto diciamo la sua esplicitazione finalmente è messa in esercizio col DM 1 marzo 2021 quindi in realtà che deve partire nel Sian a certissimo giro diciamo l'informatizzazione attraverso gli organismi pagatori del quaderno di campagna informatizzato sul quale io ho tutti i dubbi miei personali ma perché un conto è diciamo il documento scritto il quaderno scritto un conto se lo sposti su piattaforma informatica ma il problema resta il problema è la realtà in campo cioè esiste una schizofrenia a monte che dovevamo in qualche modo colmare certamente questo salto in avanti è comunque il condizio se ne può non per andare in una certa direzione almeno di informatizzazione e lo leggo adesso alla questione agricoltura di precisione avete visto non l'ho commentata prima quella che avevo inserito dentro gli ecoschemi una possibilità di dare diciamo di leggere l'agricoltura di precisione non come un intervento ma come un approccio trasversale agli ecoschemi e non solo cioè ma questo diciamo non è stato esplicitato nelle proposte ministeriali in maniera chiarissima ci sono alcuni passaggi stato messo soprattutto sulla parte legata alla riduzione dei fitofarmaci e dei nutrienti e l'uso di queste tecniche però il tema è se se vogliamo legare a strumenti diciamo molto ampi quali sono gli ecoschemi che in una logica generale devono andare un po' aperti a tutti tra virgolette anche l'innovazione legata alla possibilità di fare l'utilizzo di precisione per finalità green cioè se vogliamo combinarle o no e come farlo poi si vedrà perché qui c'è il dubbio sulla controllabilità io personalmente da agricoltore credo che non c'è problema perché oggi siamo con questi affari controllati dai green pass fino a non so cosa dappertutto quindi una macchina operatrice di precisione la tagghi e la controlli da dove ti pare per cui il tema del controllo è superabile perché fino ad oggi è stato obiettato diciamo negli uffici amministrativi del ministero c'è da questo dubbio però a mio avviso la vera questione è la vogliamo collegare o no per me è importante forse partire subito con questo approccio coniugato fra innovazione e fermo restato che la decisione non è la soluzione per il mondo è una delle cose che si possono fare e questo riguarda la natura di precisione riguardo la questione della bca 9 l'obbligo del 4% da quanto mi risulta dal tavolo ministeriale che ho brevemente diciamo al quale ho partecipato in alcune sessioni ma non in maniera continuativa e quindi potrei essere non aggiornatissimo però effettivamente confermi mi pare che si vada verso l'impostazione di limitarla solo ai seminativi e almeno così ho visto mi sembra ricordare dalle bozze che si stavano discutendo questo non significa che il tema non sia aperto e condivido l'approccio invece olistico cioè l'approccio aperto a una visione più ampia perché in fondo l'azienda può portare diciamo all'interno di quel 4% anche altre tipologie di usi del suolo diversi al seminativo quindi questo è assolutamente verso la finalità che quella bcaa riguarda questo fa pandanco la bcaa 9 l'ecoschema 7 cioè l'ecoschema 7 vorrebbe andare oltre quel 4 puntando al 10 della strategia biodiversità di lungo periodo 10 attenzione non aziendale territoriale nazionale per stressare la necessità di aumentare anche la possibilità di aree diciamo ad alto valore naturalistico comunque corridoi ecologici o comunque tutto ciò che favorisce la biodiversità anche a livello aziendale e poi mi sembra mi sono dimenticato qualche altra risposta non mi ricordo Franco sì no più o meno hai detto hai detto tutto c'è un'altra considerazione che è arrivata più che altro legata all'impatto dei dei trattamenti sugli impollinatori legato al sistema di comunicazione e di verifica attraverso anche gli strumenti del digitale la preoccupazione sostanzialmente è che non ci sia non ci siano ad oggi modalità e regole certe affinché chi effettua i trattamenti informi i confinanti soprattutto chi detiene alveari e gestisce l'apicoltura ma io ricordo che a mio avviso uno dei grossi problemi che avremo probabilmente per arrivare a una buona definizione del piano strategico nazionale su tutta la partita di attuazione della direttiva europea pesticidi e che l'Italia da febbraio del 2019 di fatto è senza il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile di fitofarmaci non aver aggiornato questo documento rende effettivamente difficile o complica sicuramente la vita per capire come gli strumenti del piano strategico nazionale potrebbero aiutare a raggiungere anche i target che sono stati indicati dalle strategie fantuforche e biodiversità non so se su questo volete aggiungere qualcosa altrimenti passerei agli altri relatori che il tempo corre avete osservazioni no ok perfetto allora io aprirei la sessione dedicata alle buone pratiche abbiamo chiesto a due esperti del settore su due tematiche abbastanza diverse ma in parte collegate anche tra di loro Pierluigi Meriggi che dovrebbe parlarci delle buone pratiche legate soprattutto alla gestione del suolo che potrebbero trovare nell'architettura verde della PAC la possibilità di un importante sostegno e promozione mentre Giuseppe Cefalo che è presidente di Unapi affronterebbe un tema importante che è la tutela degli impollinatori all'interno dell'architettura verde della PAC darei la parola a Pierluigi Meriggi che dovrebbe avere una presentazione credo anche Giuseppe ve la condividete man mano che vi passo la parola vai perfetto ti vediamo bene innanzitutto grazie Franco non so se mi sentite chiaro e forte ecco cercherò di stare nei tempi innanzitutto è molto interessante le relazioni faccio i complimenti ai relatori precedenti io diciamo così sono un agronomo sono il presidente di Orta e Orta è una società che è uno spin-off dell'università cattolica di Piacenza che si occupa di agricoltura di precisione ecco infatti prima ho visto anche la definizione del collega che effettivamente è una cosa molto ampia noi diciamo di solito fare la cosa giusta nel posto giusto nel momento giusto per cui è veramente una definizione molto ampia e oggi in questa agricoltura di precisione molte volte ci si confonde con l'applicazione di precisione che è una cosa diciamo così che è declinata un po' a modo suo un po' diversa e Orta tra l'altro ha anche un'attività di ricerca e sviluppo interno e un'attività di diciamo di approccio ai sistemi culturali di cui fa parte questo Life Agrestic con cui ho avuto la fortuna di condividere alcuni risultati con Franco e che adesso mi servirà da spunto un pochino per per far vedere un po' l'attività e capire come poter questa esperienza che stiamo sviluppando dal 2019 che terminerà nel 2023 può contribuire anche alla tematica alle tematiche che sono finora state espresse Agrestic è un progetto Life dove noi siamo coordinatori sviluppato in tre siti sperimentali uno a Ravenna da dove parlo io una Pisa e uno a Foggia e praticamente questo abbiamo come partner l'Università Cattolica del Sacro Cuore l'Università Sant'Anna di Pisa Arter e New Business Media e anche ISEA per quanto riguarda il miglioramento genetico delle leguminose sostanzialmente questo progetto è rivolto a integrare tutta una serie di pratiche in sistemi culturali finalizzati a un'agricoltura migliore tra virgolette però in particolare alla riduzione dei gas serra e anche all'ottimizzazione o altri target come per esempio il sequestro del carbonio la riduzione dei consumi di casolio la riduzione anche dei pesticidi e dei fertilizzanti questo è la slide dello shelter dove noi andiamo a misurare le emissioni di gas serra sulla destra è una delle otto camere di accumulo che in questo momento aperta si chiudono periodicamente durante ogni ora e che una volta saturate di CO2 e di protossido di azoto calcolano effettivamente le emissioni del terreno per cui in questo caso sono senza cultura nel lato di destra mentre nella diapositiva grande dove c'è il mais sulla sinistra sono proprio all'interno della cultura e non si vedono gli obiettivi di questo Agrestic è quello di promuovere l'adozione di sistemi culturali innovativi ed efficienti ad alto potenziale di mitigazione del cambiamento climatico e di diffondere anche strumenti cioè gli strumenti mezzi innovativi per avere questa agricoltura più efficiente cioè nel senso ci sono pratiche culturali ma anche strumenti poi vedremo quali che sono di interesse per promuovere questi per raggiungere questi obiettivi noi abbiamo diverse fasi operative in questo progetto per cui utilizziamo praticamente l'introduzione delle leguminose è stato accennato anche dai relatori precedenti in questo caso al nord introduciamo il pisello proteico nel sito di Pisa abbiamo introdotto il cece e nel sito di Foggia la lenticchia fortunatamente le filiere delle leguminose stanno riprendendo un certo interesse anche nel centro sud Italia anche grazie ai prezzi interessanti di questi prodotti c'è anche una serie di iniziative tecnico-scientifiche atte a valorizzare anche ecotipi locali o varietà che un pochino erano state abbandonate ma che comunque hanno una buona adattabilità ai nostri ambienti per cui questo secondo punto anche il recupero la caratterizzazione e moltiplicazione di leguminose è un aspetto molto importante del progetto ma anche delle catch crop o cover crop perché effettivamente questo diciamo così questa tematica o questo strumento quello dell'utilizzo delle cover crop delle coperture vegetali durante l'avvicendamento noi lo studiamo ormai da tantissimi anni più di 30 anni però a seconda della funzione che tu vuoi ottenere che sia una funzione di sequestro una funzione di copertura una funzione di impollinazione una funzione di biocida o di attività proprio nei confronti di determinate patologie nel terreno e devi scegliere la diciamo così la la specie più adatta ma nello stesso tempo sono interventi che l'agricoltore costano piacciono essere fatti però e dobbiamo trovare anche il sistema per poter ridurre questi interventi magari di irrigazione di lavorazione del terreno e cercare di sfruttare più la consociazione rispetto a una semina di una catch crop o di una cover crop all'on cioè da sola poi dalle fasi operative abbiamo il prototipo per monitorare le emissioni quelle capsule che avete visto dobbiamo sviluppare un progetto un modello biogeochimico per la stima dei flussi del gas sera dal suolo avendo la possibilità anche poi di diciamo di validarlo tramite le misurazioni effettive e poi abbiamo anche la possibilità nei sistemi culturali ECS quelli che sono innovativi quelli efficienti di ottimizzare le tecniche culturali attraverso i DSS qui entriamo nell'agricoltura di precisione ogni cultura che viene coltivata in modo innovativo tutte le operazioni culturali sia di tipo strategico che di tipo più tattico vengono supportate da una web assistance e da modelli previsionali sviluppati da Horta di nostra proprietà che validati anche nei territori e dimostrano esempio se c'è una malattia piuttosto che un attacco di un insetto se devi dare dell'acqua o non darla oppure devi applicare dei fertilizzanti non applicabili o fare lavorazioni convenzionali piuttosto che lavorazioni profonde eccetera eccetera poi nelle fasi operativi c'è la misurazione di tutti questi benefici gli indicatori di diciamo di performance che citava anche il collega precedentemente cioè importante i colleghi precedentemente importante poi dopo andare a vedere se effettivamente tutte queste cose portano dei benefici c'è una parte da sviluppare sulle etichette di prodotto per la valorizzazione delle performance ambientali raggiunte e anche poi questo qui è sviluppato da Harper gli schemi di pagamento per i servizi ecosistemici una cosa importante che quello che vorremmo fare e Franco lo sa è quello di valorizzare non tanto il prodotto finale che deriva dai legumi o che deriva dal pomodoro che viene coltivato con sistemi efficienti ma valorizzare questi prodotti finali perché sono in un sistema culturale efficiente ricordiamoci che i benefici non si ottengono soltanto cambiando le cose in una cultura l'avete detto più altre volte io lo ribadisco per esperienza personale ma i benefici si vedono nel medio e lungo termine per cui occasionalmente posso coltivare la lenticchia l'anno dopo posso coltivare il grano duro l'anno dopo ancora posso coltivare il pomodoro o il cece o il favino ma in ogni caso questo tipo di produzione se vuole essere valorizzata deve tenere conto che è dentro un sistema culturale innovativo dentro un sistema culturale sostenibile non soltanto quando viene coltivata come specie diciamo così puntuale ecco questi scenari vengono di mitigazione e anche i relativi effetti socio-economici vengono studiati in collaborazione anche con industrie regolamentari e poi dopo c'è tutto un aspetto anche di replicabilità e trasferibilità di questi diciamo così sistemi innovativi di rotazione in altre filiere in altre pese europee lo stiamo facendo in Francia in Germania in Ungheria in Grecia ecco per cui c'è questo diciamo diffusione di questi sistemi intanto giusto per farvi vedere qualche risultato preliminare ecco non è che è talmente complesso questo progetto e coinvolge talmente in maniera totale tutte le componenti agronomiche che ho voluto fare un po' una sintesi ecco questo è l'anno del 2020 dove abbiamo comparato diciamo il sistema convenzionale sulla sinistra con il sistema innovativo sulla destra in termini di emissioni di CO2 poi dopo va fatto tutto un discorso globale che abbiamo non è detto che le emissioni perché sono più alte e poi dopo alla fine quel sistema culturale un sistema culturale che ha una valutazione un'accezione negativa poi già presente anche tutto quello che sono le parti relativamente al carbonio sequestrato la dinamica del carbonio nel terreno a quelle che sono poi dopo tutti i flussi respiratori tutte le dinamiche anche dal punto di vista diciamo dei nutrienti nelle acque di drenaggio soprattutto in ambienti come quelli della valle padana dove insomma il pericolo tra virgolette della liciviazione è importante cioè va tutto poi dopo messo insieme però giusto un flash per far capire che sicuramente ci sono delle differenze tra sistemi culturali un altro aspetto importante per esempio è questo qui è del pomodoro no questa è la valutazione fatta alla fine del 2020 vedete rese comunque sostanzialmente quasi simili nel sistema innovativo quello verde come l'ECS a confronto della conventional cropping system l'ECCS abbiamo avuto un indice di prezzo superiore perché pur avendo una produzione leggermente inferiore abbiamo avuto anche un BRICS leggermente superiore e parametri qualitativi cioè si può produrre anche con sistemi innovativi e avere delle performance comunque elevate dal punto di vista quantiqualitativo un aspetto importante comunque anche le differenze cioè se l'asse delle X rappresenta il CCS e le barre sono le variazioni delle CS vediamo che aumentiamo l'indice di prezzo aumentiamo la PLV aumentiamo il BRICS e aumentiamo il colore e diminuiamo il pH che è un fatto positivo il pH nel pomodoro dell'industria è un aspetto positivo ma altri aspetti sono comunque importanti adesso non li ho riportati no sono qua scusate abbiamo ridotto il numero dei trattamenti fungicidi grazie ai modelli previsionali noi riusciamo a capire se dobbiamo trattare l'alternario la peronospora piuttosto che ragnetto rosso e nel 2020 la riduzione è stata del 33% dei trattamenti fungicidi quest'anno addirittura è superiore al 50% abbiamo avuto una riduzione della carbon footprint una riduzione anche della water footprint e anche del parametro LCA ecological footprint ma anche una importante riduzione del gasolio adesso noi stiamo elaborando i dati sempre sul pomodoro dell'industria nel 2021 e sono ancora più interessanti perché è logico che pretendere che in agricoltura fissare dei trend ok ma dei tetti di produzione fissi per anno poi dipende anche dall'andamento stagionale climatico dalle condizioni di maggiore o minore pressione dell'ambientale e anche biotico perché poi le malattie giocano un ruolo importante sia nel convenzionale che nell'agricoltura integrata convenzionale che nell'agricoltura biologica per cui io direi che da questo diciamo così dal punto di vista agronomico vi sono tre parole chiave che vengono fuori da questa prima analisi giusto per sintetizzare un pochino però le chiave è che uno sono i sistemi di supporto alle decisioni cioè bisogna dare degli strumenti comunque agli agricoltori che non siano la capanina meteo che uno legge dati meteo e basta o l'applicazione di precisione ma dei strumenti agronomici che ti dicono guarda la dinamica dell'azoto quest'autunno quest'inverno è stata tale che hai perso tot o non hai perso nulla per cui puoi alleggerire quelle che sono le tue fertilizzazioni puoi alleggerire quelle che ti sono i tuoi carichi e fai bisogni nutritivi della tua cultura li puoi mantenere con un limitato uso delle risorse dei mezzi tecnici su questi DSS viene fatta anche la registrazione di tutte le operazioni culturali per quello che si diceva in precedenza anche del collega che mi ha preceduto che comunque è importante dare garanzia ai consumatori dare garanzia della tracciabilità di quello che viene fatto in campo per cui questi sistemi oltre a dare degli avvisi hanno anche sono anche strumenti che servono per compilare i famosi banalizziamo quaderni di campagna o registri di operazioni culturali e soprattutto questi diciamo così questi strumenti a sussidio delle scelte tecniche dell'agricoltore devono essere assolutamente scientificamente validate cioè non si può di fare di tutto un fascio perché esistono strumenti modelli previsionali che hanno una base scientifica sono dimostrati dai lavori fatti nelle università fatti in campo e dimostrano la loro diciamo così precisione nel prevedere le epidemie nel prevedere le infezioni nel prevedere le dinamiche e altri invece che sono soltanto diciamo così strumenti basati su ricerche bibliografiche ma non c'hanno una base scientifica solida che può essere utile ai produttori agricoli perché ricordiamoci questi strumenti devono essere utili ad ottimizzare i mezzi tecnici e ad andare verso una traguardare un'agricoltura in linea con i nuovi obiettivi della PAC l'altra parola magica diciamo sono i sistemi culturali non mi stancherò mai di dirlo non possiamo vedere le cose cultura per cultura ma vedere tutto il sistema culturale nel complesso valutarlo nella sua rotazione che è da sempre fondamentale ed è la base per mitigare poi dopo tutti i vari aspetti di minaccia che sono dietro e nascosti dietro l'angolo per quanto riguarda dall'attività agricola su questo progetto agrestic ci siamo focalizzati sulle culture estensive per base e orticole però abbiamo anche altre attività proprio su culture permanenti perenni e insomma abbiamo una visione un po' a 360 gradi e condivido assolutamente quello che è stato precedentemente detto che molte volte sottovalutiamo l'aspetto forestale o l'aspetto diciamo dei prati permanenti e ci focalizziamo più sugli avvicendamenti classici ma in realtà l'agricoltura del sistema è tutto complessivo la terza parola può essere la parola cover crop e catch crop come correttamente è stato detto ha due terminologie sono le culture di coperture le culture in francesi dicono le plant piège che sono le piante diciamo così che catturano i nitrati i piège a nitrati li chiamano in Francia che sono nate 30 anni fa in particolare erano crucifere noi oggi utilizziamo sia leguminose che crucifere che anche graminase per alcuni aspetti e lì dobbiamo valutare bene l'introduzione di queste tecniche che sono molto interessanti per la sequestra del carbonio per la riduzione anche della presenza delle erbe infestanti riequilibrando da questo punto di vista il suolo e soprattutto anche con un aspetto di tipo nutritivo di incremento della biodiversità non indifferenti non ne stavo vedendo i benefici va sottolineato che operando su parcelle a pezzamenti di quasi oltre un ettaro per cui mettendo in pratica con macchine reali non facendo in parcelline da orto tutte queste tecniche culturali hanno ovviamente dei costi dell'impegno per cui da un lato è importante centrare gli obiettivi ma dall'altro l'agricoltore sicuramente deve impegnarsi economicamente in attività che prima non erano diciamo così di consuetudine o non preventivate ecco io spero di aver centrato in un certo senso con questa testimonianza un po' i temi del convegno e niente vi ringrazio dell'attenzione e niente se avete delle domande vi chiedo se possiamo farle subito se non è un disturbo perché poi purtroppo ho un impegno che alle 12 devo interrompere la comunicazione grazie grazie per Luigi al momento non sono arrivate domande sul tuo intervento posso fare una domanda io certo 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 fai innanzitutto complimenti per la presentazione io visto anche l'esperienza che ha dottor Merigi sull'agricoltura di precisione ha distinto prima molto bene le applicazioni ha circuito bene dal sistema dell'agricoltura di precisione però volevo chiedere a suo avviso la preoccupazione che possano essere diciamo tipologie di impegno finanziabili dalla PAC in qualche modo non controllabili secondo lei sta in piedi o no perché io diciamo da non più che altro amatore della vicenda ma non non ho mai messo in pratica in prima persona però l'impressione è che non sta in piedi il principio della non controllabilità anzi se c'è oggi una cosa controllabile è tutto ciò legato a sistemi web based eccetera è chiaro devo distinguere in che ambito se ha finito assolutamente sono d'accordo con lei sono assolutamente controllabili noi abbiamo tutti gli utenti registrati sappiamo esattamente quante volte accedono al sistema è logico che un sistema di non rientra nella definizione che ho dato prima che ha capito perfettamente però noi possiamo assolutamente vedere quante volte entrano nel sistema quante volte lo consultano cioè non si sente ti abbiamo perso Pierluigi un problema con la connessione credo che sia solo sua ok grazie sì allora prima di passare a Giuseppe Cefalo due considerazioni la prima che si collega anche alla domanda di Camilo Zaccarini sulla questione dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'agricoltura di precisione è chiaro che l'innovazione questo tipo di innovazione è importante ma è pregiudiziale in qualche modo accompagnarle con un sistema di formazione e assistenza tecnica agli agricoltori perché non dimentichiamoci che ah ecco è tornato Pierluigi scusa Franco scusa Franco scusa no stavo dicendo che per chiudere una delle cose di più di maggiore soddisfazione che ho avuto negli ultimi anni negli ultimi dieci anni dal punto di vista professionale è che l'agricoltore mi dice se io uso dei sistemi come il nostro di supporto delle decisioni per me è una bussola agronomica ma nello stesso tempo ti dicono mi fa ragionare cioè nel senso che l'importante mi dice ma ciò irrigo perché ciò carenza d'acqua sembra una banalità ma a volte si irriga le colture senza sapere esattamente quant'acqua c'è nel terreno per cui è un processo secondo me di education da parte di questi sistemi all'imprenditore all'agricoltore che è fondamentale perché noi creiamo una persona attenta alle dinamiche che esistono cosa che invece prima quando si faceva come di tradizione ti danno un disciplinare di coltivazione statico tu comunque devi fare quelle cose a prescindere da quello che ti avviene attorno per cui risposta sì è assolutamente controllabile e poi soprattutto i benefici sono benefici anche intangibili cioè di di aumento della professionalità e delle conoscenze da parte dell'imprenditore agricolo ok un'ultima considerazione rispetto all'intervento di Pierluigi è quello legato all'innovazione che la ricerca come nel caso del progetto Life Agrestic possono portare nella definizione poi delle strategie e nell'impostazione del piano strategico nazionale la PAC già la PAC nel periodo di programmazione precedente aveva introdotto degli strumenti importanti come il patrenariato europeo per l'innovazione per tentare di trasferire le innovazioni frutto della ricerca in alle aziende agricole per incentivare buone pratiche sicuramente una delle cose che il confronto per la redazione del piano strategico nazionale dovrà fare è capire come utilizzare al meglio le conoscenze scientifiche che oggi sono disponibili anche per una valutazione attenta di quei maggiori costi e minori rendimenti minor reddito che l'applicazione di alcune buone pratiche agroambientali possono determinare su cui potrebbero essere basati i pagamenti anche all'interno degli ecoschemi o anche solo per calcolare un costo forfettario che sia equo e soddisfacente per gli agricoltori capire come tutto questo riuscirà a trovare sintesi nel piano strategico nazionale è una delle sfide che abbiamo di fronte nei prossimi mesi Giuseppe Cefalo presidente di Unapi il tema degli impollinatori è stato già citato e richiamato più volte ci sono sicuramente apicoltori che ci seguono perché alcune osservazioni sono arrivate proprio da apicoltori abbastanza preoccupati soprattutto rispetto alle ricadute positive che il piano strategico nazionale potrebbe avere sulla loro attività di apicoltori e in generale sulla tutela degli impollinatori a te la parola per il tuo intervento mi raccomando stare nei 15 minuti ci sei? ci sono mi sentite? sì ok perfetto vediamo anche la tua presentazione se la metti modalità intera è meglio sì se mi date no devi andare giù e cliccare far partire la tua presentazione eccolo qua eccolo qua dovrebbe essere questo ok beh intanto buongiorno buongiorno a tutti grazie a Franco alla coalizione per questa opportunità per questo invito come dicevi tu ci sono apicoltori preoccupati beh sicuramente io sono uno di quelli e quindi capisco che al momento è necessario fondamentalmente cambiare registro come avete più volte detto sarò rapido io rappresento un api rappresenta circa la metà del patrimonio apistico in Italia con le associate territoriali e con quelle nazionali e quindi cercheremo di portare il punto di vista di una parte importante dell'apicoltura italiana per capire nel dettaglio poi quello che noi ci siamo immaginati come proposta sulla nuova PAC per la tutela degli impollinatori in generale e chiaramente per la tutela delle api da miele visto che il nostro settore è il nostro mistiere in particolare una rapida carrellata sui dati dell'apicoltura sono dati che per gli addetti al settore sono abbastanza conosciuti e noti io li ripeto per chi invece non è addetto al settore apicoltura in Italia ci sono oltre 70.000 apicoltori con 140.000 postazioni e circa 1.550.000 alveari sono dati molto freschi aggiornati a qualche mese fa quindi sono abbastanza recenti le regioni in cui ci sono più apicoltori sono Lombardia Veneto e Piemonte ma se invece poi si va a guardare per quanto riguarda il patrimonio artistico regionale le cose cambiano leggermente anzi cambiano abbastanza in maniera sostanziale per cui il Piemonte è nettamente la regione con maggiori alveari seguito da Lombardia e via via gli altri in Emilia Romagna e Toscana di questo milione e mezzo di alveari abbiamo fondamentalmente due cose di quille gli apicoltori che lo fanno per oggi tantissimi tra l'altro e detengono circa 390.000 alveari quindi il 29% del patrimonio artistico nazionale è detenuto dagli apicoltori in autocostro cioè quelli che non commercializzano il prodotto ma lo tengono per l'esigenza della propria famiglia mentre invece oltre il 70% più di un milione e centocinquantamila alveari sono detenuti dagli apicoltori con partita IVA fondamentalmente che producono per la commercializzazione e quindi traggono dall'attività apistica un reddito a titolo principale o integrativo perché questo perché è anche poi importante nel corso della presentazione capire la struttura delle proposte fatte dal mondo apistico da un api in questo caso per la nuova AC è stata cercata anche di ragionarla sulla struttura del nostro comparto gli alveari in Italia sono tanti sono tanti e soprattutto in una regione in cui circa il 65% della superficie dell'intero territorio nazionale non è spendibile ai fini quindi c'è anche una concentrazione degli apicoltori in determinate prove una curiosità di tutti quegli alveari censiti circa poco più di 2.000 aziende hanno chiarato più di 150 alveari per azienda rappresentano la metà praticamente degli alveari quindi possiamo dire che c'è una grossa la metà del patrimonio apistico nazionale è concentrato in un po' più di 2.000 aziende detto questo veniamo al tema centrale della proposta veniamo al tema centrale di come salvaguardare il benessere degli insetti imbollinatori in generale e perché farlo beh sappiamo tutti che l'80% dell'impollinazione tra piante avviene grazie all'opera degli insetti tutti gli insetti impollinato ce ne sono tanti alcuni vivono in forma sociale altre in forma isolate ma sono veramente migliaia le tipologie di insetti impollinati l'impollinazione è importante per due motivi che ci dà da mangiare cioè permette l'impollinazione e quindi permette al nostro sistema di produzione alimentare di produrre e poi dall'altra parte permette all'ambiente di riprodursi quindi aiuta al mantenimento della biodiversità quindi gli impollinatori sono un elemento essenziale se ne sono accorti anche un po' a tutti i livelli se ne è accorta anche l'UE e diciamo ha iniziato a interessarsi in maniera più diciamo stringente della tematica degli impollinatori il problema negli anni passati è che agli impollinatori quindi in questo caso alle api da miele più in generale più in particolare veniva dato tra virgolette un'importanza molto marginale rispetto al settore agricolo noi siamo un'attività agricola ma rispetto alla produzione agricola veniva data un'importanza marginale per il semplice motivo perché si andava a individuare l'impatto che l'apicoltura dava al settore agricolo solo dal punto di vista della produzione dei prodotti dell'algare miele e altri prodotti beh questa produzione specifica di miele ed altri prodotti impatta solo per 1,5 miliardi di euro l'anno ma se invece noi andiamo ad allargare e quindi andiamo a capire ad analizzare l'apporto che l'apicoltura dà al settore agricolo quindi in termini di indotto e di impollinazione quello che avevo detto prima questa fetta di torta aumenta di molto e si arriva a circa 15 miliardi di euro l'anno è stato quantificato con uno studio tra l'altro anche abbastanza recente del 2015 e del 2013 quindi sono diciamo dati che per la prima volta sono stati quantificati perché poi non avevamo fino a questi studi un quantum dell'apporto delle api e degli impollinatori al settore agricolo da qui parte da qui parte l'interesse da parte dell'UNAPI e da parte del mondo apistico italiano rappresentato da UNAPI alla tutela degli impollinatori noi facciamo parte di una cordata apistica di un coordinamento apistico europeo siamo soci fondatori abbiamo la presidenza e siamo anche uno dei paesi più attivi all'interno di questo coordinamento e già all'inizio del 2019 è stata formulata una sorta di guida una sorta di un documento molto articolato che illustrava quelli che potevano essere le linee guida i percorsi attivabili all'interno della futura PAC nel 2019 stavamo ancora veramente in fase embrionale della progettazione anche a livello di istituzione europea per cui abbiamo fatto una serie di percorsi abbiamo ipotizzato percorsi appunto per proteggere gli impollinatori ed è stato pubblicato questo documento di 28 pagine in diverse lingue presentato direttamente all'istituzione europea è consultabile al sito che vedete sottostante e che cosa contiene contiene suggerimenti indicazioni sia per attivare una PAC sostenibile sul primo pilastro sia sul secondo pilastro addirittura prevedeva anche un indice degli impollinatori e poi per misurare la performance della futura PAC rispetto agli obiettivi che si proponeva e per fare questo appunto suggeriva del documento suggerisce la soluzione appunto di un osservatorio degli insetti impollinatori per misurare questo indice di performance della PAC questo a livello europeo a livello italiano abbiamo iniziato a pensare che un dialogo con il mondo agricolo fosse assolutamente necessario imprescindibile per fare delle proposte per la futura PAC del resto la PAC appunto contiene una serie di strumenti appunto prevalentemente indirizzati al mondo agricolo per cui abbiamo ritenuto importante iniziare questo dialogo tra l'altro organizzazioni con la quale c'era stato anche scontro in passato e quindi siamo stati promotori anche di un tavolo tecnico per le buone pratiche agricole a difesa degli impollinatori il tavolo è coordinato dall'osservatorio tutti i documenti li trovate sotto questo link ma in realtà è un tentativo istituzionale di mettere vicino a un tavolo il mondo agricolo il mondo avistico per cercare di iniziare un percorso difficile articolato di condivisione di obiettivi come potete vedere non tutte le sigle agricole le hanno firmate la condiretta ad esempio non è presente sono presenti altri così come è presente il mondo della cooperazione da questo tavolo è iniziato un ragionamento per proporre ipotesi sulla futura in particolar modo è iniziata una lunga discussione per alcuni versi anche costruttiva e diciamo modulare con i partner per cercare di arrivare a proporre un ecoschema impollinatore abbiamo visto gli ecoschemi è un obbligo cioè la futura PAC basa moltissimo delle risorse e anche degli obiettivi sulla costruzione a livello nazionale obbligatoria tra l'altro di ecoschemi quindi visto che c'era questa obbligatorietà noi l'abbiamo vista come una possibilità di proporre un ecoschema impollinatore tra l'altro io sono preoccupato perché nella lista che è stata fatta vedere prima tra gli obbligativi non c'è alcun riferimento diretto a un ecoschema ma con Franco con la gordata cambiamo l'agricoltura noi abbiamo avuto diversi incontri per cui arriveremo domani a proporre e nelle sedute successivo del tavolo di quartienariato un ecoschema impollinatore il tavolo questo tavolo quindi mondo agricolo e mondo apistico ha formulato una proposta una proposta che si basa su una serie di misure da attivare per la difesa degli impollinatori che cosa prevede questo ecoschema impollinatore? beh una premessa noi siamo usciti con un documento molto prima delle linee guida eh e e diciamo delle indicazioni generali su come su cui su come architettare la futura parte per cui noi avevamo immaginato che un ecoschema impollinatore dovesse essere intanto uno strumento chiaramente volontario e la futura parte prevedere una serie di pratiche pubblicatorie agricole e un'altra parte di di pratiche diciamo facoltative doveva essere uno strumento a livello nazionale ma negoziabile anche su base regionale e anche su base pluriannale e praticamente fondamentalmente incentiva ricompensa l'agricoltore che gli aderisce per l'impegno profuso a salvaguardia degli insetti impollinatori e in generale quindi qui ritorno il discorso iniziale della trasversalità degli obiettivi anche tra ecoschemi quindi un approccio generale migliorare eh le prestazioni di carattere ambientale l'ecoschema uscito dal tavolo dell'intesa proponeva una serie di misure non sto a leggerle tutte anche perché sono abbastanza articolate ma in generale i due pilastri erano ehm predisporre una parte della superficie agricola e una parte delle eh diciamo della superficie agricola per culture di interesse bellifero e terifero attrattive per gli impollinatori quindi utile in modo da ottenere un ricambio del ehm diciamo dell'area di pascolo degli impollinatori e prevedere almeno il dieci per cento e prevedere il sette per cento invece del come infrastruttura ecologica questo era il primo piano su cui si basa la proposta l'altro era un una serie di pratiche agricole ovviamente molto più sostenibili riduzione dell'impatto dei pesticidi se necessario fare dei trattamenti farlo con alcune modalità non utilizzare prodotti eh con un DT eh superiore a 15 giorni quindi una serie di suggerimenti nei primi incontri preliminari con il CREA c'è stato detto avete fatto un ottimo lavoro le proposte sono molto articolate però come è stato anche ripetuto stamattina dobbiamo cercare di trasformarle in qualcosa di facilmente eh applicabile su larga scala e controllabile per cui è chiaro che da questo documento noi dobbiamo andare a prendere altre misure invece possiamo tranquillamente destinarle a ehm diciamo ad altri strumenti uno potrebbe essere il PAN l'altro potrebbe essere lo CM Miele e quant'altro ehm tuttavia eh l'UNAPI nel corso di diversi incontri istituzionali anche perché nel nostro interno c'è un un ampio dibattito su come e che cosa prevedere della futura PAC si è fatto carico di formulare una proposta articolare sul primo e sul secondo pilastro della PAC beh sul primo pilastro l'abbiamo visto per noi è fondamentale e cruciale attivare un ecoschema impollinatore quello è di fondamentale e importare abbiamo detto sono obbligatori dobbiamo prevedere l'unico impollinatore però l'UNAPI è andata oltre è cercato anche di immaginare possibili proposte anche sul secondo pilastro il secondo pilastro sarebbe lo sviluppo rurale eh una delle misure più importanti che noi andiamo a proporre sono delle aiuti aiuti diretti alle aziende apistiche a salvaguardia della biodiversità e della diciamo del ruolo ambientale che l'azienda apistica ha questo lo si può fare attraverso prevedendo nel piano strategico nazionale delle misure particolari indirizzate che fondamentalmente permettono premiano l'apicoltore che opera in determinati contesti che opera in determinati scusate sono andato un po' troppo avanti che opera in determinati contesti opera in determinati areali opera in determinati condizioni su base regionale cioè il piano strategico nazionale deve prevedere questo canale preferenziale che poi le regioni possono modulare c'è un esempio virtuoso già in atto collaudato che è la misura 10.1.09 del PSR Calabria che ha previsto appunto un incentivo ad alveare per gli apicoltori che operano in un certo modo portano gli alveari in determinati questo a nostro avviso potrebbe essere un sistema per aiutare le aziende apistiche modulato su base regionale e per le caratteristiche anche di obiettivi che le regioni possono avere è importante però che a livello nazionale vi sia un inserimento che apre diciamo la strada all'interno del piano strategico nazionale altra misura altra proposta sempre sul secondo rilasso sullo sviluppo rurale abbiamo tante misure quelle soprattutto a tante risorse agroambientate che saranno destinate agli enti pubblici queste risorse devono secondo noi avere un obiettivo di salvaguardare l'impollinatore e incrementare le risorse in che modo ad esempio con piani di rimboschimento con specie nettarife creazioni di piazzone sono tutti esempi poi ce ne possono stare centinaia infrastrutture ecologiche con piani di interesse degli impollinatori tutti i piani tutte le attività indirizzate a questi enti pubblici a nostro avviso dovrebbero prevedere o una premialità molto alta per attività a favore dei prodotti o addirittura meglio ancora avere come obbligo quello di prevedere almeno il 50% di specie nettarife compatibilmente con il sito dove bisogna andare a operare e compatibilmente anche con la struttura del progetto è fondamentale che in queste misure agroambientali destinati agli enti pubblici la tutela degli impollinatori la salvaguardia sia prioritaria ancora un'altra ulteriore proposta sempre sullo sviluppo rurale noi sappiamo ormai storicamente acclarato la legge decente e credice unito che è stata una grande conquista del mondo avviso l'attività avviso pur rientrando a pieno titolo nell'attività agricola è un'attività che può essere anche completamente disconnessa dal terreno ci sono una serie di incentivi per le aziende biologiche che tuttavia non avendo terreno non possono accedere quindi noi dobbiamo se vogliamo puntare sull'apicoltura bio dobbiamo farla diciamo accedere a tutti gli incendivi previsti per l'agricoltura biologica ma in questo caso per l'apicoltura anche senza alcuna disponibilità di detente quindi senza la proprietà senza l'affitto noi siamo agricoltori anche senza terreno dobbiamo non è una cosa scontata e io tra le presentazioni che avete fatto ho visto come il bio dovrebbe essere invece un obiettivo molto ambizioso da fare le varie da un entanto ancora abbiamo un'enorme problematica produttiva legata chiaramente al cambiamento climatico l'apicoltura è una delle attività maggiormente dal cambiamento climatico dobbiamo potenziare e allogare meglio adeguate specifiche risorse della PAC finalizzate all'attivazione di polizze assicurative agevolate quindi all'interno dei contributi PAC per cercare di attenuare il rischio produttivo derivante dai rendi climatici l'apicoltura è inserita nelle attività assicurabili ma oggi non ci sono polizze e quindi di fatto noi per anni abbiamo subito in maniera inerme questo rischio produttivo dobbiamo cercare invece già in questa fase di progettazione di prevedere la difficoltà di questo settore e quindi allogare meglio e adeguate specifiche risorse questo è il nostro pacchetto di proposte per la nuova PAC chiaramente noi la intendiamo come un pacchetto di proposte coordinate una sorta di piattaforma quando l'abbiamo concepita dopo un lungo momento di discussione l'abbiamo l'abbiamo chiamata facciamo rifiorire l'apicoltura quindi tanti livelli di intervento per tanti obiettivi coerenti a favore degli impollinatori che prevede anche aiuti diretti come abbiamo visto sul secondo pilastro sullo sviluppo rurale ma legato al ruolo ambientale che l'APE svolge che gli impollinatori svolgono poi a noi questa è sembrata la strada migliore l'abbiamo pensata perché potrebbe essere la strada migliore se al tavolo di partenariato ci saranno altre proposte pro impollinatori a me piace molto tra l'altro quello di WWF e quella della durata che abbiamo ricoltura noi saremo pronti a discuterla a supportarla e perché no a sostenere credo di aver sporato di poco grazie per l'attenzione rimango a disposizione grazie Giuseppe se puoi togliere la condivisione sì il tuo intervento conferma un po' quello che abbiamo detto all'inizio cioè il fatto che in previsione della redazione del piano strategico nazionale sono già partiti momenti di confronto e di discussione da parte di alcuni attori sociali ed economici che saranno chiamati domani a partecipare al tavolo di partenariato a me è sorpreso un po' ad esempio il fatto che nell'accordo nazionale tra le associazioni agricole e l'associazione degli apicoltori le cooperative non sia stato coinvolto fin da subito ad esempio il mondo del biologico visto anche il richiamo la sottolinea diciamo hai sottolineato l'importanza anche del comparto dell'apicoltura biologica così come al momento il ministero e le strutture quindi il CREA e anche SMEA con cui voi comunque vi siete confrontati non hanno allargato il momento di confronto e di discussione su un tema che è senz'altro prioritario come indicano le strategie fan to fork e biodiversità ma la stessa iniziativa specifica che la commissione ha avviato sul tema degli impollinatori che si inserisce in un obiettivo più vasto che è quello della tutela della biodiversità io direi biodiversità naturale perché come noto è anche difficile distinguere tra api mellifere selvatiche o domestiche quindi non entriamo adesso nel merito però sicuramente il tuo intervento rilancia l'esigenza di avere nell'ambito del lavoro del tavolo di partenariato un momento di approfondimento che consenta anche ad altri soggetti di portare il contributo per raggiungere l'obiettivo che noi sicuramente condividiamo che è quello di avere un ecoschema specifico per la tutela degli impollinatori ci c'è Matteo che vorreva farti una domanda e una domanda ce l'avrei anch'io rivolta in questo caso a Camillo lui tra l'altro si occupa di gestione del rischio e quindi potrebbe probabilmente già dare anche una risposta alle tue osservazioni sulla gestione del rischio ma la mia domanda era un'altra nel confronto che noi come Cambiamo Agricoltura stiamo definendo una serie di proposte da portare al tavolo di partenariato una di queste è anche sugli impollinatori ma non solo una delle nel confronto anche con l'associazione degli apicoltori è emersa l'esigenza di dover definire un ecoschema per gli impollinatori che sia efficace con una pluralità di interventi quindi non solo ad esempio prevedere l'impegno della semina di una certa percentuale di piante netterifere piuttosto che l'inserimento all'interno della rotazione sempre di essenze netterifere ma anche impegni che siano direttamente legati alla riduzione dell'uso dei prodotti degli agrofarmaci dei prodotti fitosanitari ad esempio eliminando l'uso del diserbo chimico anche nell'agricoltura integrata cosa che attualmente invece è consentito o eliminare alcune categorie di di agrofarmaci che sono particolarmente pericolosi per gli impollinatori la mia domanda è considerando che gli ecoschemi devono essere anche tra virgolette semplici e devono essere efficaci tu ritieni fattibile l'ipotesi di pagamenti sugli ecoschemi che siano anche differenziati in relazione all'entità dell'impegno cioè prevedere ecoschemi dove vi sia la possibilità da parte dell'agricoltore di decidere di assumere più impegni potrebbe essere la percentuale di aree specifiche seminate con fiorine terriferi accompagnata magari dall'introduzione di leguminose nell'ambito della rotazione o una percentuale minima di superficie di sau coperta da culture che hanno un interesse per gli impollinatori e se questa diversità di impegni possa essere associata a una diversità di pagamenti sia all'interno dello stesso ecoschema ma magari combinando anche più ecoschemi come la proposta di Agroecology Europe come sai l'abbiamo presentata in occasione del convegno sugli ecoschemi e in quella proposta si immagina anche la possibilità di avere pagamenti differenziati degli ecoschemi nei momenti in cui l'agricoltore decide di assumere cioè di aderire a due ecoschemi che in qualche modo sono sinergici tra di loro e contribuiscono al mantenimento di uno stesso servizio ecosistemico devo rispondere io scusami la mia domanda era per Camillo ma chiaramente anche per te poi vorrei al limite dire a Matteo se vuole fare anche lui la sua domanda così poi lascio a voi due le risposte prima di passare a Maria Grazia per il suo intervento voglio essere breve allora complimenti per le proposte Giuseppe spero di avere la presentazione perché vorrei approfondire ho notato che ci sono proposte sia nel primo e nel secondo pilastro mi chiedo però se nel primo pilastro non avete anche esplorato delle proposte per quanto riguarda i pagamenti diretti magari come ben sai i pagamenti diretti sono basati sulla superficie non sempre gli apicoltori raggiungono una superficie tale da avere un pagamento giusto neanche il regime per i piccoli agricoltori riesce ad offrire un beneficio stiamo parlando di 1200 all'anno e non sempre riescono a coprire i costi del lavoro che viene richiesto da un apicoltore quindi mi chiedevo se avete proposto la creazione di uno specifico regime per i piccoli apicoltori che sia davvero attrattivo quindi stiamo parlando oltre i 3000 euro e poi mi chiedo se avete proposto qualcosa nella OCM perché come ben sai c'è la possibilità di aprire di creare organizzazioni di produttori anche fuori il settore ortofrutticolo quindi mi chiedo se spingerete anche per l'aiuto alle organizzazioni di produttori piccole che vengono finanziate dal primo pilastro ok Giuseppe e poi Camillo sì allora in merito alla proposta di un pagamento diretto sul primo pilastro noi abbiamo prima di di formulare la proposta abbiamo sondato un po' il terreno non solo in ambito nazionale con il ministero ma anche a livello comunitario anzi soprattutto a livello comunitario fondamentalmente ci siamo fatti l'idea che cambiare la struttura a livello nazionale dei pagamenti diretti legati ai titoli ai suoni e introdurre la categoria dei pagamenti ad alveare per gli apicoltori era una strada difficilissima da seguire in questo ambito e a livello di progettazione così come era stato diciamo impostata dal lavoro uscito fuori anche dai titoli però noi abbiamo bisogno di incendire l'agricoltura noi abbiamo bisogno di premiare chi poi accudisce le api e ci vive e il lavoro delle api serve come abbiamo detto al mondo agricolo e a tutelare la biodiversità quindi la nostra idea non è stata quella di abbandonare completamente l'aiuto diretto ma semplicemente legarlo non più al primo pilastro ma al secondo pilastro nelle misure agroambientali in modo che in questo ambito magari con una modulazione regionale è chiaro che deve essere fatto un lavoro a monte che noi ci prendiamo carico di fare cioè quello di fare inserire una sorta di canale preferenziale nel piano strategico nazionale sulle misure agroambientali quindi noi quell'aiuto che tu pensi lo abbiamo cercato di di rottarlo su sulle misure agroambientali se nel corso del tavolo di partenariato diciamo c'è la possibilità di pensarlo questo regime noi lo sosterremo cioè esploreremo anche quest'ulteriore ulteriore possibilità con il mondo agricolo diciamo la domanda era se all'interno del tavolo c'è stata una condivisione di questo obiettivo con il mondo agricolo abbiamo sudato parecchio affinché questa proposta di ecoschema uscisse condivisa dal dal tavolo tecnico quindi per il momento abbiamo ci siamo concentrati solo con un dialogo sull'ecoschema abbiamo fatto tanta fatica tanto è vero che è uscito tra virgolette anche un po' più applicabile ma anche un po' più ridimensionato negli obiettivi questo è la 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 siglerò la mia presentazione sarà molto lieto anche di scambiare ulteriormente opinioni con te anzi la mia presenza oggi qui era anche per questo per allargare le conoscenze personali e anche la possibilità di scambiare le dute con il mondo della ricerca con il mondo istituzionale camillo a te la risposta invece la mia domanda un pochino più complicata diciamo che voglio anche ho avuto l'occasione per anche io complimentarmi per la presentazione del del sonsalbe dell'UNAPI e precisare che Ismae non è stata coinvolta su questa parte non è che la vedo ora probabilmente avete avuto un rapporto con il CREA ma questo non vuole di niente semplicemente per chiarezza quindi io non diciamo però conoscevo gli ecchi di questa attività che condivido anche dal punto di vista per altri motivi e poi vengo alla tua risposta sulla parte tua Franco ma per precisare anche che secondo me laddove non dovesse esserci lo spazio per un ecoschema targato API questo non significa che all'interno di quelli già rappresentati e in un'economia generale anche in un giusto bilanciamento con la condizione rafforzata da una parte e le misure agroalimentari dall'altra non si può trovare una linea diciamo di impegno che cerchi di raggiungere ugualmente le proposte o parte di quelle che avete presentato ad esempio mentre leggevo la slide degli impegni che proponevate con mi sembra otto passaggi diciamo di impegno ma almeno 4 o 5 sono facilmente in parte un paio già presenti nella nostra proposta di ecoschemi nazionali uno è quella sull'ecoschema 7 dove si immagina che l'inerbimento sia finalizzato alle piante mellifere e favorisca le fioriture idonee alla impollinazione eccetera dell'entomo fauna eccetera piuttosto che le stesse fasce inerbite all'interno delle colture permanenti quale migliore diciamo ragionamento oppure dentro anche il disegno delle nuove bca e così via quello che non finisce nel primo pilastro poi viene ritagliato nel secondo attenzione quindi io adesso non sono io il coordinatore della partita ecoschemi perché avvocata totalmente a Blasi e quindi al ministero ma diciamo avendo in qualche modo da chi ho partecipato penso che si possano trovare degli spazi laddove non si possa targare un ecoschema to-cur così perché se voi andate a vedere oggi un po' ciascuno giustamente porta le sue visioni e ce ne saranno anche tante altre senza assolutamente non voler criticare o depotenziare quella dei colleghi del settore apistico che la cui proposta condivido diciamo nei suoi contenuti ma va trovato il giusto mix e la giusta collocazione quindi detto questo poi in seconda battuta volevo dire il tema delle avversità climatiche e sanitarie nella filiera apistica è un tema importantissimo che ricorre annualmente e che qui sì siamo stati chiamati come smega in causa almeno io perché seguo le zone del rischio e stiamo per uscire con un rapporto proprio sui danni diciamo al settore apistico della campagna in corso abbiamo grandi danni alle produzioni primaverili sia conseguenti alle gelate autunno diciamo primaverili sia in conseguenza adesso poi della siccità con l'assenza del mire da caccia al nord degli agrumi al sud ogni anno complessa che ha necessitato di interventi aggiuntivi suppletivi per garantire la produzione con altre tecniche diciamo di mitigazione del danno da parte degli apicoltori allora rispetto a questo la nuova misura nazionale che si andrà a fare di gestione del rischio è proprio finalizzata agli eventi catastrofali e quindi c'è piena diciamo interesse anche dell'amministrazione a lavorare in quella direzione nell'oggi posso dire che gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale da una parte dove non siano state attivate i polizze e attenzione l'assenza di polizze non è un problema dell'amministrazione è un problema del mercato assicurativo che non non ha ancora tarato delle polizze indicizzate o dei modelli diciamo di difesa idonei va trovato qui sì col sistema della ricerca quindi qui richiamo il CREA cioè il sistema della ricerca faccia ricerca e non politica ecco col sistema della ricerca va fatto un approfondimento e create delle polizze parametriche o qualcosa che aiuti gli apicoltori questo oggi non è che non sia presente la possibilità di farlo si possono fare ma purtroppo pochissime compagnie mi risulta mi sembra cattolica ha fatto qualcosa ma non ci sono strumenti sul mercato noi facciamo di tutto per agevolare attraverso il nuovo fondo mutualistico nazionale che nascerà la possibilità di incentivare anche queste tipologie di danni la seconda rispetto alla tua domanda allora qui lo schema la soluzione è complessa perché la domanda è complessa non posso dare una risposta così diciamo direttamente però posso dire che i modelli di incentivazione sono due o il modello flat rate tra virgolette come anche collegamento ha rappresentato aver fatto alcuni stati membri mi sembra ricordare la Spagna mi sembra la Francia oppure l'approccio dello stesso metodo di compensazione delle misure agroclimatico ambientali cioè mancati redditi e maggiori costi i due metodi sono a facoltà dello stato membro sceglierli cioè non è non c'è nessun nessuna limite a farlo forse c'è solo un vincolo normativo che ci porta su uno o l'altro metodo che è l'ipotesi in cui volessimo dare un aiuto tra virgolette accoppiato a un tipo di coltura questo non si può dare a meno che non lo si dimostri con i mancati redditi e maggiori costi non puoi dare flat rate a una coltura di un certo tipo dentro l'ecoschema perché andrissi a creare un aiuto accoppiato che non si può fare per i VTO quindi il tema è un po' complesso quindi risposta alla prima domanda metodo di quadri dei due schemi forse quello flat rate è più facile però come diceva Metta è molto meno customizzato e preciso per cui danneggi sempre qualcuno è una media quindi però è molto più facile da calcolare da farsi e da pagare velocemente perché non devi trovare l'azienda X a cui dai l'aiuto Y perché lo dai tutto uguali e quindi può andar bene per alcuni tipi di ecoschemi forse più generalizzati più ampi rispetto alla sommabilità combinabilità degli impegni non c'è nessun vincolo cioè non è che è vietato sommarli si può fare il problema è il budget il timore è che già i soldi sono pochi già gli aiuti sono pochi incentivanti se noi andiamo a concentrare un po' quello che diceva Metta gli aiuti diciamo a superficie in poche aziende può essere anche potenzialmente un problema non sto dicendo che non si possa fare si può fare addirittura potrebbe essere opportuno però attenzione al problema della compatibilità finanziaria di lasciare a tutte le aziende la possibilità in qualche modo di entrare a bordo a meno che si vada verso un modello diverso vogliamo un'agricoltura a livelli diversi con concentrazione solo in poche aziende degli ecoschemi ma allora questo è un altro tipo di intervento che lo dico un po' diciamo avendo una visione un po' più ampia anche lato organizzazione sindacale eccetera potrebbe essere un po' difficile farlo oggi lo immagino come un processo di transizione oggi usciamo da pagamenti retti che verranno dimezzati rischiamo la sollevazione popolare se anche gli ecoschemi vanno tutti solo in poche aree magari molto meritevole ambientalmente ma poi con poche aziende che li possono andare a prendere grazie ok grazie una sola battuta l'auspicio che la coalizione Cambiamo Agricoltura ha è che gli ecoschemi vadano a pagare gli impegni reali e concreti ed effettivi cioè il parametro di riferimento deve essere impegni che danno dei risultati effettivi in termini di tutela della biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici quindi il fatto che si debba garantire ecoschemi pagati a tutte le aziende per noi non è un principio valido vanno premiate quelle aziende quegli agricoltori che decideranno di impegnarsi di più per l'ambiente e per il clima questo è il principio generale che almeno noi a cui noi facciamo facciamo riferimento parola a Maria Grazia Mammuccini entriamo nella terza sessione dove i due rappresentanti tutte e due al femminile della coalizione che abbiamo agricoltura ci portano la loro visione rispetto all'architettura verde della PAC e anche le loro impressioni le loro osservazioni rispetto a quanto hanno detto fino adesso i relatori precedenti a te Maria Grazia la parola sì grazie Franco naturalmente come dire anche l'iniziativa di oggi della coalizione come sempre molto interessante è l'esempio di un percorso che non solo ha visto diciamo un posizionamento sul piano politico anche a livello diciamo del percorso fatto fino ad arrivare all'accordo del trilogo a livello europeo con le posizioni che ha sempre portato ma poi anche la capacità di entrare nel merito per portare un contributo effettivamente partecipato mettendo diversi soggetti interessati in condizioni di capire di approfondire di individuare le proprie proposte quindi anche oggi è un tassello di questo percorso e posso dire che tutti gli interventi a partire dalle due relazioni introduttive ma poi anche delle buone pratiche presentate assolutamente molto interessanti e che aiutano proprio questo tipo di approfondimento intanto diciamo un po' anche dal punto di vista generale la visione da parte diciamo di una componente importante della coalizione che è quella del mondo del biologico la prima riflessione che mi sento di fare di ricordare in premessa che mi pare molto importante è che l'architettura verde è un punto centrale della PAC della futura PAC ed è un punto diciamo da cui discende anche una visione complessiva rispetto al resto delle diciamo degli interventi della PAC perché è la condizione fondamentale per diciamo rilegittimare l'uso del 30 di oltre il 30% delle risorse del bilancio dell'Unione Europea destinate all'agricoltura e che devono produrre ricadute di interesse per tutta la società cioè non c'è bisogno di argomentare ulteriormente questo aspetto rispetto alle priorità di clima ambiente biodiversità perché diciamo anche quello che ricordava prima Zaccarini rispetto alla gestione del rischio e la situazione che tutti gli anni le imprese agricole si trovano a dover affrontare è un susseguirsi di emergenze di anno in anno quest'anno appunto gli agricoltori si trovano a fronteggiare dalla gelata primaverile alla siccità estiva con un impatto sui raccolti veramente veramente importante quindi questa emergenza è la priorità assoluta per tutti da affrontare però io credo che sia molto importante chiarire anche l'aspetto che l'agricoltura diciamo che l'architettura verde non è un solo un contributo determinante alla sostenibilità ma è uno strumento fondamentale per rilenciare i sistemi agricoli e alimentari anche del nostro paese in questo senso diciamo questo approccio sempre in cui oggettivamente le organizzazioni puntano sempre a mettere in contrapposizione la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica va come dire chiarito in modo definitivo perché è proprio dall'architettura verde che si può trovare uno strumento strategico anche per il rilancio della nostra agricoltura io questo proposito voglio citare solo una domanda che si pone il professor Tascarelli che oggi è diventato da poco presidente di Ismea ma che è stato un riferimento per il mondo del biologico con rivoluzione bio ma anche per la coalizione cambiamo agricoltura molti dei convegni hanno visto la sua presenza si pone una domanda in modo molto chiaro che dice qual è il vantaggio nel difendere un'agricoltura che produce commodity e muore di prezzi bassi e si dà una risposta che dice ogni volta che si alza la sticella della qualità e della sostenibilità il nostro paese ha più possibilità di competere rispetto agli altri paesi europei e mondiali io credo che questo sia un punto importante nell'affrontare l'architettura verde perché l'errore che è stato fatto fino ad oggi anche dalle stesse organizzazioni e mettere in contrapposizione gli investimenti per l'architettura verde con la sostenibilità economica siamo in un'altra fase non è così la sostenibilità economica e sociale perché l'altro aspetto naturalmente l'abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli non solo ha determinato ambiente non solo ha determinato riduzione del reddito degli agricoltori ma anche come dire il passare sopra i diritti dei lavoratori non c'è da dire niente su questo perché gli esempi anche di questi ultimi tempi li abbiamo tutti chiari quindi partendo da questo io saranno presentati nei alzana che si che partirà tra pochi giorni i dati dell'andamento del settore sono già uscite alcune anticipazioni anche nel 2021 c'è una crescita del 5% del mercato interno una crescita dell'11% dell'export quindi una crescita veramente molto consistente e c'è una ripresa per fortuna una crescita del mercato interno più sui negozi specializzati più sui negozi di vicinato e anche le filiere corte e il rapporto diretto agricoltori e cittadini rispetto a quella che era stata la grande crescita dell'anno scorso della grande distribuzione quindi sono esempi che ti dicono che appunto l'architettura verde sarà anche uno strumento per rilanciare la competitività economica del nostro sistema se la usiamo bene è lo strumento sicuramente per diciamo puntare alla transizione ecologica che per il nostro sistema è passare dall'agricoltura intensiva all'agroecologia quindi fatta questa premessa di ordine generale le proposte da questo punto di vista che ha fatto la coalizione sono proposte molto evidenti dal punto di vista degli obiettivi generali che poi si stanno adattando anche sulla base di quello che è l'evoluzione dell'elaborazione sia a livello europeo ma ora di quello che sarà poi il piano strategico nazionale passando appunto dai principi generali a individuare proposte concrete per usare gli spazi che comunque la riforma dà perché la questione degli ecoschemi è sicuramente uno spazio importante da utilizzare ecco devo dire che anche l'incontro di oggi ha fatto emergere quanto sia complesso però questo lavoro quanto sia complesso e quanto ci sia bisogno di confronti da questo punto di vista per esempio anche quest'ultimo ipotesi presentata da un'api che sicuramente è un'ipotesi molto interessante come dire anche il mondo del biologico sarebbe stato molto interessato ad approfondire una ipotesi di questo tipo è evidente che l'attivazione del tavolo e anche l'attivazione di gruppi specifici per tematiche per approfondire e individuare anche proposte condivise da più soggetti del partenariato che rappresenterebbe sicuramente un valore per il piano strategico sarebbe stato assolutamente positivo perché da questo tipo di confronto come abbiamo visto nell'incontro della coalizione sicuramente nascono proposte più avanzate soprattutto più condivise che è una condizione fondamentale anche poi per il risultato quindi da questo punto di vista ci auguriamo veramente che da domani questo percorso anche attraverso dei gruppi tavoli tematici gruppi tematici di approfondimento sia assolutamente possibile per appunto partire da delle ipotesi di lavoro ma poi approfondire con il contributo di tutti allora sull'architettura verde naturalmente la coalizione ha puntato ad alcuni obiettivi di ordine generale che come dire io voglio ricordare per la questione di superare sul primo pilastro la percentuale minima indicata dagli accordi del trilogo del 25% e puntare perlomeno al 30% anche perché gli stati membri non possono andare sotto il 25% però naturalmente possono scegliere dotazione superiore il 30% da dedicare agli ecoschemi proprio per puntare a degli obiettivi diciamo fare dei passi in avanti più lunghi su alcuni obiettivi strategici che la coalizione ha sempre sostenuto cioè il superamento dei titoli storici ed è evidente che questo è cioè fare passi più avanzati aiuta a superare diciamo un'impostazione che ormai non ha più ragione di essere insieme all'altro punto importante appunto che già Franco ricordava del tetto massimo a 100.000 euro per azienda come elementi proprio che puntano ad accelerare i tempi di cambiamento dell'impostazione soprattutto del primo filasco l'altro punto oltre a puntare sul 30% degli ecoschemi è quello di puntare al 30% al 2027 di superficie coltivata biologica nel nostro paese cioè per raggiungere quello che è l'obiettivo diciamo che la coalizione si è data fin dall'inizio del 40% al 2030 ma e rispetto al biologico su cui diciamo il mondo del biologico sta all'interno della coalizione ma la coalizione ha sempre sostenuto convintamente questi obiettivi assicurare anche a questo metodo il sostegno maggiore rispetto ad altri metodi e questo io vorrei che fosse diciamo soprattutto nella discussione di oggi che ha già fatto emergere queste esigenze rendere molto chiaro perché diciamo deve essere il metodo maggiormente sostenuto l'intervento iniziale di Matteo Metta ricordava che sugli ecoschemi bisognerebbe puntare ad avere almeno due obiettivi con diciamo l'adozione di una pratica agricola raggiungere almeno due obiettivi posti dalle priorità diciamo sulle questioni di clima e ambiente ecco cioè il punto chiaro per il biologico è che attraverso la produzione biologica intanto si diciamo uno strumento che a 360 gradi porta risultati efficaci sugli obiettivi posti da Green Deal cioè la riduzione dei concimi chimici questo lo ricordava anche Zaccarini arrivare al 25% di superficie bio ci farebbe probabilmente raggiungere automaticamente la riduzione del 20% di concimi chimici perché sapete bene che il biologico usa solo diciamo pratiche agronomiche e comunque uso di fertilizzanti organici e un contributo comunque importante alla riduzione dell'uso dei pesticidi e anche diciamo alla riduzione dell'uso antibiotici per l'impostazione della zootecnia biologica ma oltre a questo è evidente che l'approccio olistico del biologico e diciamo anzi un sistema che guardi in futuro per il biologico ad alzare anche gli standard dello stesso bio ma porta a degli obiettivi di tipo trasversale cioè la tutela del suolo naturalmente la capacità di assolvere il CO2 la tutela della biodiversità quindi il punto chiave rispetto a questo è che cioè cambiamo l'approccio verso l'agrocomunica con una visione olistica ed è l'efficacia trasversale di questo metodo che porta a delle a degli impatti diciamo che riguardano tutti i punti dell'architettura verde per questo è diciamo un punto importante su cui la coalizione ha sempre puntato oltre naturalmente anche ad avere un approccio semplificato dal punto di vista amministrativo perché della della semplificazione amministrativa è un sistema certificato e in quanto tale diciamo ha non ha bisogno di ulteriori controllo controlli aggiuntivi allora dal punto di vista generale rispetto a questa posizione della coalizione cambiamo agricoltura il mondo del biologico ha fatto un lavoro anche di merito che poi abbiamo valutato anche insieme alla coalizione che è diciamo un punto di proposta complessiva per quanto riguarda gli ecoschemi dedicati diciamo l'intervento dell'architettura verde nei confronti del biologico perché è evidente che se noi puntiamo a raddoppiare rispetto alla situazione attuale dove siamo al 15,8% arrivare al 30% ci vogliono diciamo i sostegni necessari per raggiungere questo obiettivo che porta a un raddoppio degli investimenti nella prossima programmazione dell'affare nei confronti del bio da questo punto di vista diciamo l'ipotesi che abbiamo fatto naturalmente è chiaro che con un impegno di questa natura l'intervento nei confronti del biologico deve essere articolato tra il primo e il secondo pilastro primo perché è uno strumento a disposizione per qualificare gli interventi del primo pilastro secondo perché in questo modo puntando ad avere una parte investimento sul primo pilastro sugli ecoschemi una parte sulle misure agroclimatico ambientali del secondo pilastro consente di incidere in maniera percentuale in modo equilibrato sia sul primo che sul secondo pilastro noi abbiamo da un lavoro fatto insieme ad IAB sempre con il supporto scientifico del professor Frascarelli nelle varie simulazioni fatte che portano se vogliamo raggiungere il 30% di superficie coltivata biologico portano un investimento nella prossima programmazione fino al 2027 di 900 milioni di euro abbiamo nelle varie simulazioni pensato che è un'ipotesi equilibrata può essere quello di prevedere la conversione nel primo pilastro e i costi di certificazione del primo pilastro questo anche per riconoscimento di un principio in realtà rispetto alle produzioni biologiche l'idea il principio complessivo che chi inquina paga è applicato all'incontrario perché alla fine chi produce in maniera più pulita ha un costo maggiore quindi da questo punto di vista il riconoscimento dei benefici sociali diciamo di produrre con un metodo sostenibile potessero essere riconosciuti anche da questo riconoscimento dei costi di certificazione e il mantenimento del biologico invece nel secondo pilastro ora naturalmente questo per noi il punto importante è gli obiettivi che si è data la coalizione cioè il 30% di superficie coltivata biologico da qui al 2027 e naturalmente il budget conseguente di 900 milioni di euro in questo ciclo di programmazione per raggiungere questo obiettivo noi ci siamo presi anche la responsabilità come il mondo del biologico insieme alla coalizione di fare una proposta che dimostri come si possa raggiungere questo obiettivo in un modo però che dia il senso di responsabilità rispetto a tutto il resto dell'agricoltura lasciando diciamo non impattando in modo determinante sulle misure per clima e ambiente del primo e del secondo pilastro lasciando perché siamo perfettamente consapevoli che il biologico è un punto importante per la transizione agroecologica per i risultati diretti che può conseguire ma anche per delle pratiche che può offrire al resto dell'agricoltura ad esempio per ridurre l'uso dei pesticidi però è evidente che passo in avanti lo deve fare tutta l'agricoltura quindi ci deve essere uno spazio che punti a coinvolgere il numero massimo possibile di agricoltori io da questo punto di vista come dire condivido quello che diceva Zaccarini devono essere coinvolti negli ecoschemi il maggior numero di agricoltori possibili però con l'approccio che diceva prima Franco cioè per ridurre per produrre risultati efficaci ecco allora è chiaro da questo punto di vista che ci devono essere risorse finanziarie da destinare ad altro tipo di ecoschemi ad altro tipo di misure agroclimatiche ambientali purché rispondano a quel principio di efficacia io quando parliamo di questi arrivo velocemente a concludere faccio sempre degli esempi molto concreti ad esempio fra gli ecoschemici c'è l'agricoltura conservativa e secondo me è un punto importante anche per quanto riguarda l'adesione degli agricoltori a questa pratica però purché non sia fatta con l'uso di glifosato siccome ci sono metodi alternativi all'uso di glifosato attraverso soprattutto macchine che possono consentire semina sul sodo senza l'uso di glifosato deve essere diciamo un chiaro elemento di efficacia non si può pagare un ecoschema con l'uso di glifosato oppure anche la stessa agricoltura integrata deve alzare l'asticella perché perché ad esempio sui le acquisizioni scientifiche sulla questione dei diserbanti ormai danno tutti gli elementi e tecnici per superare l'uso di dei diserbanti intanto perché ci sono le alternative appunto quindi da le pratiche rotazioni sovesci inerbimenti macchine per il controllo delle erbe cioè nelle culture arboree è una pratica che potrebbe essere sostituita e poi soprattutto dalle recenti acquisizioni della valore ad esempio delle piante delle radici delle pianti per la fertilità del suolo continuare a usare i diserbanti significa ammazzare la fertilità del suolo oltre alle erbe allora benissimo l'integrato però perlomeno superiamo l'uso dei diserbanti ecco questo è secondo me l'approccio giusto il massimo dell'adesione degli agricoltori perché è importantissimo che tutta l'agricoltura faccia dei passi in avanti per pratiche però che producano un'efficacia effettiva le altre due questioni fondamentali secondo me sono il collegamento con le ACIS perché anche negli esempi ci sono stati presentati stamani senza un supporto alle decisioni senza un'assistenza tecnica indipendente agli agricoltori questo passaggio dell'uso serio dell'architettura verde e questo riguarda anche il biologico perché se puntiamo ad una conversione di superfici importanti questo deve essere fatta con un'adeguata preparazione degli agricoltori se noi rischiamo veramente di non ottenere i risultati che ci poniamo quindi assistenza tecnica ricerca innovazione e formazione sono elementi fondamentali da collegare all'architettura verde in una visione complessiva che vede sia le misure del primo che del secondo pilastro dove naturalmente la dimensione territoriale e anche la dimensione della cooperazione per l'applicazione di misure ambientali a livello territoriale vede uno spazio sicuramente privilegiato nel secondo pilastro rispetto al primo quindi ecco complessivamente avere una visione Zaccarini ci dava un quadro molto chiaro all'inizio di questo e che è assolutamente condivisibile della visione integrata non solo dei due pilastri e del piano strategico nazionale che per la prima volta costituisce un'opportunità perché avremo tutto dentro sarà complesso dal punto di vista delle relazioni istituzionali però alla fine ci potrà dare una visione unitaria di tutto l'investimento strategico con i fondi della PAC e collegandolo anche con le altre politiche a partire da quelle del PNRR quindi da questo punto di vista credo che il lavoro da fare è un lavoro notevole per quanto ci riguarda come mondo del biologico è fondamentale che alla vigilia degli approfondimenti del piano strategico nazionale della PAC ci sia anche l'approvazione della legge sul biologico perché naturalmente ci doterebbe di una serie di strumenti che potranno essere raggiunti anche con investimenti strategici attraverso i fondi della PAC e del PNRR quindi siamo in un momento fondamentale dove il piano strategico nazionale può fare da sintesi per una diversa visione dell'agricoltura nel nostro paese per il futuro di cui l'architettura verde costituisce il motore fondamentale di cambiamento per cui come dire se secondo noi questo confronto fra tutti il partenariato è iniziato troppo tardi speriamo che da domani inizi nel modo giusto anche dotandosi di quegli strumenti di approfondimento anche specifici su singole tematiche che possono aiutare una partecipazione effettiva del partenariato grazie Maria grazia andiamo in chiusura la parola a Federica Luoni della Lipu coordinatrice anche della coalizione Cambiamo Agricoltura a te lascio il compito a questo punto anche di tirare un po' le conclusioni dell'incontro di questa mattina visto che abbiamo sforato i tempi ma siamo partiti un po' in ritardo anche per problemi tecnici io anticipo solo una cosa che probabilmente approfondirai anche tu domani la coalizione Cambiamo Agricoltura presenterà un proprio manifesto di proposte principi guida per la redazione del piano strategico nazionale proprio alla vigilia della dell'annunciata riunione del del tavolo di partenariato un tentativo di fare una sintesi anche delle tante proposte e discussioni che ci sono state in questi mesi in appuntamenti come come quello di oggi ne abbiamo fatti veramente tanti e probabilmente non sarà questo non sarà non sarà l'ultimo a te la parola per tirare anche le conclusioni del convegno grazie Franco davvero grazie a nome mio e di tutta la coalizione ai redattori che sono intervenuti oggi che credo ci abbiano veramente dato la possibilità di avviare e di fare delle riflessioni particolarmente significative come ha già detto Franco ha detto anche Maria Grazia e anche e primariamente lo scopo della coalizione Cambiamo Agricoltura mi ricordo la coalizione Cambiamo Agricoltura nasce nel 2017 e nel corso di questi anni ha sempre avuto lo scopo di riunire attorno a sé mondi mondi differenti dall'ambientalismo a chi si occupa più strettamente di agricoltura ma anche chi si occupa di salute e di tematiche sociali e ultimamente anche i consumatori del paesaggio proprio perché abbiamo sempre ritenuto che il confronto anche aperto all'esterno fosse un fatto di crescita e costruzione proprio per costruire insieme quelle proposte che arrivassero a definire un nuovo corso per l'agricoltura italiana all'agricoltura e l'agricoltura europea proprio il lavoro congiunto di questi mesi della coalizione ci ha portato a definire proprio la necessità di scrivere dei documenti tecnici delle proposte concrete da portare al tavolo di partenariato proprio perché abbiamo sempre chiesto il ritenuto necessario che il tavolo che fortunatamente all'inizio domani non fosse solo una mera compilazione di osservazione dei documenti già presentati ma fosse un proprio scambio di idee e di documenti tecnici e di principi su cui basare la strategia per l'agricoltura italiana del futuro per questo come coalizione abbiamo preparato dei documenti delle schede tecniche di proposta che sicuramente potranno essere integrate con molti dei suggerimenti arrivati anche dal webinar di oggi in particolare sulla necessità di interventi che siano trasversali che siano misurabili e concreti efficaci ed efficienti come va Franco oggi questo documento tecnico è stato tradotto in questi giorni in un vero e proprio manifesto che la coalizione pubblicherà domani renderà pubblico domani di cui vi anticipiamo oggi alcuni contenuti nell'idea che l'architettura verde della PAC sia l'architettura di tutta la PAC quindi sia una visione a 360 gradi di tutti gli interventi e gli strumenti che la PAC mette a disposizione per arrivare a costruire una PAC che sia aderente ai principi del Green Deal europeo e che solo così potrà sposare tutti gli aspetti della sostenibilità come diceva Maria Grazia perché la sostenibilità a lungo termine e non a breve termine si basa solo sull'integrazione della sostenibilità economica sociale e ambientale senza una scala gerarchica tra queste come spesso viene richiesto e viene sottolineato come la sostenibilità economica sia la principale in realtà solo l'integrazione di queste tre data spesso proprio da un cambio di paradigma porterà a una soluzione concreta nel prossimo futuro quali sono le proposte le quali anticipate da Maria Grazia soprattutto i principi su cui riteniamo si debba basare il piano strategico nazionale noi in una dizione della camera abbiamo utilizzato un termine che è il termine coerenza che riteniamo debba essere il fil rouge di tutto questo processo coerenza a partire da una analisi reale delle necessità dei documenti anche delle sottoanalisi che sono state pubblicate sul sito del ministero coerenza come dicevo prima con i target delle strategie europee e una coerenza interna all'interno di tutto il documento che come Camillo Zaccarini diceva all'inizio mi ha fatto molto piacere sentirlo non deve essere un pur elenco di strumenti che vengono messi all'interno del posizionato in una griglia di interventi ma devono essere una vera e propria strategia in cui in un crescendo si arrivi a identificare poi uno schema collettivo che arrivi all'identificazione poi del raggiungimento scusate dei target che ci siamo posti l'altro principio è sicuramente quello di soldi pubblici per beni pubblici questo ormai è quello che i cittadini chiedono è il modo per cui la PAC potrà essere giustificata anche negli anni futuri e quindi è estremamente necessario che si tenga forte questo principio come coerenza all'interno della definizione della definizione del piano un approccio coerente un approccio che segua i principi olistici dell'approccio paesaggistico e soprattutto dell'approccio agroecologico che riteniamo sia il modello così come ha getto franco da seguire e la coalizione Cambiamo Agricoltura ha fatto proprio il documento presentato nei mesi scorsi da Agroecology Europe su quella che devono essere i principi e gli interventi per la futura la futura PAC Nel manifesto che presenteremo domani abbiamo cercato di riassumere in undici punti chiave quelli che saranno e devono essere per noi i nodi e gli interventi chiave che il prossimo piano strategico nazionale dovrà contenere nel manifesto non troverete i dettagli tecnici ma come dicevo il manifesto è accompagnato invece da un documento di approfondimento in cui dettagliamo anche quali sono secondo noi per raggiungere questi punti gli interventi e le strategie le strategie di intervento migliore i punti di questo manifesto li possiamo racchiudere in alcune parole chiave agricoltura biologica l'ha già detto bene e ne ha già parlato ampiamente Maria Grazia Mammuccini spazi la salvaguardia degli spazi naturali per le aree agricole e qui si innestra tutto il discorso fatto da Giuseppe proprio sull'importanza anche della costruzione di schemi o di interventi o come suggeriva lo stesso Camillo di una permeazione di tutto il piano di interventi sia per gli impollinatori sia per la salvaguardia anche degli uccelli degli ambienti agricoli che sono uno degli indicatori il Farm and Port Index è uno degli indicatori chiave anche della prossima PAC come lì siamo coinvolti in iniziativa europea proprio su questo ma è fondamentale che le varie componenti della biodiversità che poi impollinatori e uccelli che sono un po' come diciamo le specie ombrello che poi a ricaduta vanno su tutto l'insieme della biodiversità biodiversità che è un campanello d'allarme ma è quella che ci la sua decrescita ci sta ci dice che qualcosa non funziona anche nella fornitura di quei servizi ecosistemici generali che poi vanno a influire sulle altre componenti ambientali quindi la salvaguardia della biodiversità rispetto alla tabella mostrata magari da come all'inizio secondo me non va come dire targettizzata soltanto nell'obiettivo specifico 6 ma in realtà è un obiettivo trasversale gli interventi che si vanno a creare per la salvaguardia della biodiversità vanno a influire su molti dei comparti ambientali anche sulla sostenibilità economica delle singole aziende un intervento e un'attenzione anche su quelle che sono le aree quelle che ritenute marginali le aree interne ad iniziare da un'attenzione ai prati permanenti alle foreste alle aree non produttive e alle aree ad alto valore naturalistico ad iniziare dalle aree della rete Natura 2000 un piano strategico nazionale che deve rispondere alla crisi climatica in atto non possiamo nasconderci dietro un dito abbiamo visto tutti quest'anno quali sono state le conseguenze dei fenomeni estremi dalle gelate invernali all'estrema città agli incendi l'agricoltura deve vittima e carnefice di questa di questa situazione e quindi il piano strategico nazionale non può non porre come obiettivo strategico quello dell'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ad iniziare da una revisione sostanziale del comparto zootecnico che è una delle principali fonti di emissioni di gas di gas climalteranti rivedendo anche il sistema rispetto agli impatti che la nostra agricoltura ha sui paesi terzi sappiamo come l'importazione di mangimi causa delle devastazioni in area del mondo tropicali e quindi dobbiamo puntare a una revisione di questo sistema a iniziare proprio dall'ottosufficienza mangimistica e da rivedere qual è l'appropriato carico animale sulle superfici culturali aziendali favorendo una zootecnia estensiva e delle aree interne zootecnia a cui è fortemente legato anche un altro tema chiave per la coalizione che abbiamo agricoltura che è quello del benessere animale un benessere animale che non sia soltanto di facciata attraverso un sistema di classificazione abbiamo visto anche richiamato il sistema classifare ma che sia un sistema che nulla in realtà cambi ma che dia un nome faccia da greenwashing a quello che con dei minimi miglioramenti al sistema attuale ma deve essere davvero una revisione che porti a una sostanziale considerazione del benessere animale con un sistema di etichettatura su più livelli e che si lega strettamente anche alla salute umana con una reale riduzione ad esempio del numero dell'apporto degli antibiotici che non deve essere che deve essere reale e non solo non solo misurato una salvaguardia del suolo come abbiamo già detto per la sua importanza per come fonte come riserva di CO2 ma anche come base portante per tutta l'agricoltura sappiamo che senza suolo non può esserci agricoltura senza un suono salvo senza un suono che non solo sia una riserva di CO2 ma sia anche una riserva di biodiversità non non da ultimo il tema della biodiversità agricola abbiamo parlato di biodiversità naturale di adattamento ai cambiamenti climatici ma senza un'attenzione a quella che è la biodiversità agricola le varietà e le razze che costellano il nostro paese un nostro paese così variegato che va dal Mediterraneo fino alle Alpi ecco riscoprire le varietà adatte a ogni singolo facendo un approccio globale ma puntando sulla valorizzazione degli aspetti locali è fondamentale perché davvero ci sia una valorizzazione anche del lavoro degli agricoltori attraverso ad esempio una gestione uno scambio dei semi una gestione più partecipata anche di questi di questi aspetti e da qui mi allaccio alle richieste della coalizione sull'ultimi temi che ha già riportato Maria Grazia in chiusura del suo intervento che sono quelli un'altra parola chiave che è condivisione condivisione e comunità sicuramente il piano strategico nazionale dovrà puntare l'attenzione a quegli interventi che promuovano sia l'agricoltura sociale e i servizi che l'agricoltura dà al territorio ma soprattutto la costruzione di vere e proprie comunità rurali il secondo pilastro si chiama programma di sviluppo rurale e non è puntato quindi soltanto all'idea di incentivare i singoli ma di creare una vera e propria comunità intorno all'agricoltura e quindi questo è fondamentale sia sostenendo la multifunzionalità aziendale le figure corte i mercati locali ma anche creando una cooperazione tra l'agricoltore e territorio grazie ad esempio al sostegno dei distretti e in particolare dei biodistretti e allargando in questo il sistema della conoscenza e della consulenza che sia un sistema non top down ma un sistema a rete e allargato e in questo mi viene da dire molto spesso anche il problema dell'agricoltura di precisione che gli incentivi a questo tipo di pratiche spesso vanno a favore soltanto delle aziende che già se lo possono permettere quindi non fanno crescere il comparto ma favoriscono i pochi ecco il pensare a dei sistemi allargati ha la possibilità anche di di sostenere le misure di cooperazione in cui i sistemi di agricoltura di precisione intesi come ben ce li ha spiegati il l'intervento gli interventi che ci abbiamo preceduto quindi non come una mera utilizzazione delle macchine ma un sistema di conoscenza e di previsione possono essere distribuiti e ad uso non di pochi fortunati ma di tutto un sistema agricolo e anche sociale abbiamo già sforato i tempi la coalizione è a disposizione e metterà a disposizione sempre le sue conoscenze e attraverso webinar come questo e altri momenti però ci auspichiamo che lo faccia il piano strategico nazionale lo faccia il ministero lo faccia Cresmea attraverso un percorso che sia davvero partecipato le premesse purtroppo dobbiamo dirlo non sono delle migliori dopo aprile non abbiamo più ricevuto nessuna convocazione una convocazione che è arrivata in fretta e furia il 13 il 12 di agosto quando molte delle nostre segreterie erano già già chiuse documenti arrivati devo dire all'ultimo momento ecco vorremmo che da domani questa cosa non succeda più che non dovremmo essere noi a pungolare il ministro perché quando arriva il commissario dell'agricoltura vengano fatti grossi proclami poi non reali ecco che da domani ci sia davvero un cambio di passo prima da iniziare del cambio di passo per un'agricoltura in senso agroecologico ma anche un cambio di passo nella trasparenza e partecipazioni di tutte le componenti del del parternariato dalle associazioni di categoria alla società civile all'associazione di professionisti agli altri ministeri ricordiamo il ruolo fondamentale che anche i regolamenti danno al MITE e a tutte che purtroppo ancora non è stato coinvolto quindi noi lancieremo domani il manifesto ringraziamo davvero tutti voi per la partecipazione attenta e numerosa nonostante ormai i webinar siano anche fatti così da seguire a domani con le nostre proposte e per chi sarà domani con il confronto con il ministero delle parti sociali di cui cambiamo agricoltura chiaramente vi darà conto proprio perché siamo per garantire ancora di più una trasparenza e una condivisione grazie a tutti grazie Franco non so se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti no un ringraziamento anch'io a tutti i redatori e un saluto alla prossima iniziativa di pubblica di Cambiamo Agricoltura grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti